Ci sarà la classica coreografia dei derby, l'ha annunciato anche già ieri la Curva Nord, ma ci saranno delle bandierine, 6.500 bandierine, e poi hanno annunciato anche una sorpresa per il secondo tempo con qualcosa che ha a che fare con le stelle. Oggi è iniziato Cialanoglu con un post dicendo si affronta la squadra con due stelle contro quella con una stella. Non so se è bene parlare prima, secondo me è meglio dopo. Non tutti informati, non l'abbiamo raccontato qui. L'ex capo dell'Ultrate, Nerazzurri, ha accusato di omicidio, ha le sue problematiche penali. Poi abbiamo raccontato questo episodio molto complicato, però è un episodio che è un po' scosso quel mondo che si deve evidentemente organizzare, ma so che ci sono indagini anche nuove per quanto riguarda il rapporto anche con il sistema di affari di questi personaggi. Quindi c'è un piccolo segnale di turbamento dentro quel mondo lì. Però ho detto, adesso siamo al momento del calcio. Chi comincia? Cominci tu, sei l'Inter. Da quello che ho capito dovrebbe muovere palla al Milan, non vorrei dire... No, si muove la palla al Milan, perché la logica, lo dico, tanto chi segue questi programmi ancora prima del nostro arrivo, del cambio di nome, sa che si parla in base a chi ha il possesso. Questa è la donna con due, no? E noi parliamo quando parliamo, Berdigi? Noi interviamo quando non c'è il possesso di nessuno. A noi, guarda, io e Chirico... C'è alcuni break di settembre e c'è più, quindi... Noi e Chirico speriamo di essere un po' trasportati. Vabbè, prima o poi finisce la partita. No, sai anche perché? Io stasera vorrei riscattarmi, perché sono ancora scioccato dallo spettacolo di Juve Napoli. Ah sì, eh? Sì, che mi ha... Madonna, una noia. Non è stato bello. Tu ti ricordi quando io ti ho detto qui e tu mi hai preso in giro che mi hai dato del Marzullo? Sai, io ricordo tutto. No, addirittura. Con un'ottorancoroso. Io ho dato del... No, non mi potrei mai permettere. I Viterboi sono etruschi. Etruschi pare che vengono dall'Anatolia, quindi ho una sensibilità turca, attenzione. C'è parlato del turco? No, del Marzullo. Del Marzullo. No, con affetto. Che è un mio amico che stimo molto. No, ma infatti. La persona davvero che si è squisita. Ma scherzavo? Lui mi ha detto, come dire, mi fai una domanda. Ma qual era la domanda? Io ho detto che qualche volta l'eccesso di gioco annulla il gioco. Cioè, come dire, l'eccesso di intelligenza. No, ma qui proprio non se ne è proprio visto. Ma però scusate perché c'è a San Siro, c'è un minuto di raccoglimento. I ricordi di Teotoschi Laci che ha vestito anche la maglia nera azzurra. Ieri l'hanno ricordato a Torino per la Juventus, all'Inter dal 92 al 94. E quindi commozione anche a San Siro. Ieri anche al Bernabeu con la musica di Ennio Morricone. C'è stato veramente un momento toccante. Questo per capire anche Schillaci come è ricordato. A Torino è successo qualcosa. Quando noi abbiamo fatto crone e ci siamo occupati per le condizioni di Schillaci dicevamo che c'era stato un movimento abbastanza piccolo del mondo del calcio su Schillaci. Anche lì mi devo ricredire, oggi è stasera la serata dei dipensamenti perché invece mi sembra che è stato ricordato e celebrato per la sua grandezza. Però ci siamo, vai! Ci siamo. Ebram sul punto di battuta muoverà palla al Milan che in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra. Ebram che carica i compagni, batte le mani, insomma vuole incoraggiare i ragazzi e speriamo che ne traggano positività da questo incoraggiamento del numero 90 che aspetta ancora qualche istante. Arriva ora al fischio dell'arbitro Mariani, lo ricordiamo. Muove palla al Milan con il tocco di Fofanà per Tomori. Quindi Teo Hernandez ancora da Tomori. L'Inter prova subito a portare il pressing. Il Milan con calma gira dalle parti di Mignani il pallone. Poi Mignani serve nuovamente Fic Tomori preferito a Pavlovici in coppia con Gabbi almeno dal primo minuto. Teo Hernandez sulla sinistra, finta il lancio, poi con l'esterno va a dialogare bene con Reinders. Cercato Morata, trovato tra le linee, non c'è fallo, combattono i giocatori. Alla fine il Milan in qualche modo riesce ad uscire centralmente con Pulisic che prova ad imbucare per Ebram, chiude tutto Acerbi. Chiude tutto Acerbi che quindi può far ripartire l'azione dell'Inter. Sulla sinistra la palla però nella terra di nessuno, finisce ancora tra le maglie rossonere. Recupera Gabbia, allora questo lancio errato da parte di Acerbi. Siete come i BB e i Bibo. La megnana, si è coordinati, perfetti. Passato in un minuto però, vediamo quanto è. Teo Hernandez sulla sinistra, riceve da Reinders. C الرante, riparte. Bimò, 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 Bimò. Mosconi, Bimò. Ti piace? Vai, vai. Gabbia riceve da Fufanà, alza la testa nella propria metacampo. Il Milan prova ad impostare, Fufanà si abbassa sulla linea dei difensori. alla fine attira Lautaro prima di allargare sulla sinistra per Tomori, lancio in profondità alla ricerca di Teo Hernandez, chiude Pavard poi ancora Tomori sulla respinta palla all'Inter. Recupera palla all'Inter con Cialanogu Mkhitaryan che subito nello spazio serve Dumfries in verticale, Valolandese viene contrastato in calcio d'angolo, guadagna il calcio d'angolo l'Inter la tocca a Tomori, quindi calcio d'angolo per l'Inter, lì si riproporrà uno dei duelli che ha fatto ormai storia Dumfries con Teo Hernandez stavolta è andato Tomori a chiudere perché i terzini del Milan sono già molto alti, finora come Fonseca aveva promesso, dobbiamo tenere la palla e così non si può prendere golli, in effetti in un minuto e 50 secondi l'Inter l'ha toccata 5-6 secondi però attenzione, perché adesso c'è l'Inter un'occasione su calcio d'angolo vediamo di batterlo bene Di Marco Di Marco che chiama lo schema dalla sinistra della porta di Mignan Mariani dice vi vedo, non tiriamo le maglie e quindi Di Marco ora può battere questo primo corner al terzo minuto di gioco, Di Marco palla che spiove in aria sul primo palo direttamente sull'esterno della rete non lo batte bene Federico Di Marco che torna ora in difesa Bomò si riposano un attimo che ne pensi di questa esclusione di Pavlovich? Un po' inaspettata a meno che noi non sappiamo se magari non stesse benissimo perché comunque era stato il giocatore tra i nuovi forse che si era messo più in luce era andato un po' in confusione anche lui nel match di Champions con il Liverpool no, sbagliando due o tre appoggi però comunque quella era stata una partita dove più o meno erano offragati tutti infatti ti ricordi che io dicevi non avrei messo i voti a nessuno ti ricordi di sufficiente andiamo con la grona che poi dopo sentiamo rimessa per il Milan che ha giocato corto con Gabby a lancio lungo rimpallato da Mkhitaryan Emerson Royale con le mani va a cercare un compagno viene incontro Pulisic che prova a spondare per Morata bravo in qualche modo a girare per Reinders che passa bene su Ubarella c'è spazio sulla sinistra per il Milan con Ternandez che può correre centralmente c'è largo Leao lo serve ora Rafa entra in area di rigore arriva al cross deviato sono visto male da Pavard dovrebbe essere calcio d'angolo in teoria per il Milan no rimessa dal fondo a me sembrava che l'avessi toccata Pavard per l'Inter forse l'ha toccata invece vediamo il replay involontariamente Hernandez che però voglio dire a questo punto è un'occasione sprecata insomma per il Milan potete gestire un po' meglio posso criticare Leao subito no quell'appoggino di morbido a girare ma vai dentro cattivo a provare a puntare Dunfer vai vai Borrelli partenza dal basso dell'Inter con bastoni Sommer ma Mariani dice subito che così non si può battere perché vediamo un po' che cosa ha visto di regolare era Ebram in aria di rigore o comunque prima della battuta e quindi lo invita a uscire dall'aria quindi l'Inter ora può ribattere con bastoni Sommer Sommer che alza la testa e si riparte con bastoni bastoni che viene basso per dare più possibilità a Sommer di far partire l'azione con la palla a terra il lancio lungo di bastoni per Barella per Nantes lo anticipa bravo Teo ad andare via due uomini a mantenere il processo Fofana Morata viene incontro a prendere palla sull'out di destra sulla tre quarti dell'Inter si accentra Alvaro chiama palla largo Emerson Royale la riceve ora al 22 si sovrappone Pulisic Royale va al cross in area di rigore alla ricerca di Ebram sul secondo palo Dunferis prolunga la rincorsa del pallone che termina in falo laterale dalla parte opposta rimessa per il Milan in zona d'attacco con Leao che con calma va ad occuparsi della rimessa rimettendo in gioco per Teo Hernández in zaglia abbastanza agitato vorrebbe però chilometri fuori dalla sua area tecnica non gli dice mai niente nessuno Fofana palla sulla destra per Pulisic c'è il solito Emerson Royale largo Pulisic attende a servire di fronte a sé c'è Mkhitaryan va sul mancino cerca Reinders lo trova Tigi è in area di rigore non calciamo la palla buona per Morata l'opportunità per il Milan Sommer qui non mi ha dato l'idea di essere proprio sicurissimo conclusione col mancino di Morata deviata in calcio d'angolo dal portiere dell'Inter ma buon Milan in questo avvio ci ha provato giustamente Morata non benissimo non ho capito come è andato qua insomma rispettato le previsioni di Bargigio sono anche un po' le mie almeno scesi in campo con un po' di come dice oggi sono quelle citazioni di Alettaio Romano con un po' di cazzim con un po' di personalità con un po' di ma seguiamo il calcio d'angolo vai Pulisic dalla bandierina si andrà presumibilmente con il cross direttamente a centro area anche se c'è Leao nei pressi della battuta del calcio d'angolo alza il braccio destro Chris con il destro a rientrare arriva ora il cross sul primo palo allontana l'Inter con Mkhitaryan poi Di Marco il palone resta ancora buono per Teo Hernandez che lo ripropone in area dalle parti di Ebram in qualche modo allontana la difesa nero-azzurra ma ancora Teo in anticipo sull'autaro il Milan con Reinders ricomincia addirittura da Mignan sa per esaurirsi il sesto minuto sempre 0-0 a San Siro l'hanno seguito alla lettera Ponseca dobbiamo tenere la palla il più possibile però diciamo un buon Milan e mi ha colpito nell'azione sprecata da Leao quell'immenso buco che c'era su quella fascia l'Inter sono bastati due passaggi l'Inter è partita non benissimo vai chiedi vedo che a te no però stavo per dirti io capisco il ping pong tra ex colleghi tra te e Paolo e quindi ah come l'azione qui del Milan che si sviluppa con Ebram tacco per Pulisic può andare Pulisic un'entrata bruttina su Pulisic che ne salta due qua rischiato c'è la Nollu l'entrata da dietro la fine Pulisic ha avuto troppo palla riparte l'Inter dicevi il ping pong no che vi fate i complimenti vicendevoli però no ma ammetterai che quello che ha osato di più sono stato io che gli ho detto secondo me questa partita il Milan non la perde ma no ma basta dirlo magari che poi ma no Massimo oggi è 22 di settembre esattamente 5 mesi fa era il 22 aprile giornata passata la storia dell'Inter perché fu la vittoria dell'Inter numero 6 consecutiva ma soprattutto lo scudetto del è la stella della seconda terza quindi speriamo di festeggiare il mesiversario sembri sarugia in questo momento dobbiamo allora rettifichiamo che in effetti prima della pubblicità era Chiri come aveva detto no ma adesso non dicevo per ridere se no dice che io poi ci vediamo Rosi Sensi con Bagigio che siamo stati insieme a Mediaset Rosi Capo un po' di gelosia un po' di gelosia no no nel senso che noi abbiamo detto che c'è un cazzino io ho detto addirittura che non perde va bene dai l'Inter che imposta con la difesa Barella che si gira verso i cerbi e diceva ma ero così vicino l'aveva data lunga per Dumfries ora Barella che alza la testa e lancia per Di Marco però è troppo sul portiere il lancio di Barella e quindi Mignano può bloccare la spera recupera palla al Milan che ricomincia a tessere la tela da Tomori Reinders molto basso per ora in questo avvio Tigi allarga sulla sinistra per Teo Hernandez coinvolto ancora Tomori non rischiamo ragazzi cambio di gioco di Tomori dalla parte opposta metà strada tra Emerson e Di Marco bravo Emerson col petto a servire Pulisic che allora con calma mette giù il pallone alza la testa prima di servire nuovamente l'ex terzino del Tottenham Morata viene a prendersi palla cambia gioco bene sulla sinistra per Teo Hernandez prova a sviluppare lascia il possesso a Leao che converge centralmente e passa nuovamente da Reinders Gabbia supera la linea mediana del campo allargando sulla destra per Emerson Royale un paio di giocate fine a se stesse dell'ex terzino del Tottenham che poi scambia con Morata prima di retrocedere nuovamente da Gabbia ancora Fofanane il cerchio di centrocampo prova ad avanzare centralmente rischia di perdere un brutto pallone ed è così riparte l'Inter Duram che vince un paio di rimpalli ma poi la perde bravo Tomori a recuperare il pallone a servire Ternandez Reinders possiamo attaccare attacchiamo l'Inter che adesso per ora sembra volerci far giocare con Leao Teo Hernandez ancora lui per vie centrali coinvolto Morata che di due attaccanti sicuramente è quello che fa più fase di raccordo rispetto ad Ebram che invece fa a tutti gli effetti il terminale offensivo Emerson Royale sulla destra va a sovrapporsi Pulisic che riceve palla arriva ora al cross troppo profondo sul secondo palo rimessa per l'Inter anche io penso che sia una cosa veracissima no mi sembra che il Milan con questo schieramento cioè tenga le linee se tu vedi Pulisic e Leao Pulisic sta più basso di Leao sì però anche Leao sono più vicini quindi più 4-4-2 che è 4-2-4 sì sì a parte le caratteristiche dei giocatori sembra più 4-4-2 ecco almeno io non li ho mai visti così vicini così raccolti 10 minuti il Milan non ha ancora preso un gol quindi insomma questo è un segno è un segno positivo avere con Liverpool la tragedia è cominciata a metà del primo test vai vai bravo Pulisic qui a recuperare palla su Mkhitaryan Pulisic entra in area non lo contrastano Pulisic Pulisic dal nulla al decimo Cristian sempre tu entra duro nell'area dell'Inter che rimane aperta e di fatto con il destro batte Sommer da pochi passi sorpresa tutta la difesa nerazzurra incredibile siamo in vantaggio Cristian dai 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 ti fai il replay cos'è successo cosa è successo è successo che l'Inter perde palla con Mkhitaryan Pulisic gliela strappa la conduce centralmente se non ho visto male prima Cervi si scansa poi Pavard lascia entrare Pulisic in area di rigore con la punta del destro anticipa anche l'intervento di Sommer e lo batte per il gol del 1-0 vediamo se è tutto regolare Mkhitaryan è bello ma lì a difesa dell'Inter ragazzi mi è sembrata abbastanza passiva è burro avete visto è la seconda volta che ci regolava Pulisic dimmi avete visto la risultanza un po' polemica di Pulisic ho visto che l'ha fatto il gesto di stare in silenzio forse non so se c'era la contestazione che è fatta ai giocatori dai tifosi dopo il mercoledì dopo il martedì comunque ho notato sta cosa però la difesa dell'Inter Mkhitaryan ha perso quel contrasto al centrocampo ma è stato molto bravo Pulisic perché la palla era alta mentre lui la stava stoppando si è inserita nel partito lì è Pavar che deve essere più rapido a chiudere però devo dire che se c'è questo tema questo era uno degli elementi no chirico della giornata della serata l'abbiamo detto se c'è questo tema mentale non solo tattico o tecnico nella squadra del Milan cioè reagire alle contestazioni dimostrare appunto ragazzini di avere personalità che sono comunque dei campioni beh questo è un elemento interessante ma certo ma poi soprattutto dei giocatori come il Milan con i giocatori del Milan non possono pensare di sentirsi dire siete scarsi siete mediocri non siete capaci cioè stanno al Milan lo stesso allenatore ha detto sono dei campioni sono giocatori che si allenano bene sono giocatori che possono vincere il campionato una partita in cui tirare fuori l'orgoglio era proprio questa e questa secondo me il Milan non la perde e poi scusate ma quando diceva anche Borrelli li stiamo facendo giocare sì però quando fai giocare troppo l'avversario ti va bene fin quando non segnano ma poi con poca aggressività ma poi con poca aggressività tu puoi pure provare a ripartire però devi essere più convinto ora l'Inter che riparte speriamo che lo schiaffo possa subito far reagire i nerazzurri con Inzaghi che lo raccontavano da bordo campo molto arrabbiato per come si era infilato in una maniera che l'Inter di solito non concede all'avversario perché è vero che Michele può perdere una palla a centro campo però dopo devi essere più rapido a chiudere soprattutto Pavard sì soprattutto Pavard ora la rimessa è a favore il calcio di punizione il calcio di punizione è a favore del Milan cantano ballano tantissimo i tifosi del Milan in curva sud Milan che usufruisce di questo piazzato battuto da Tomori per Mignan coinvolto Teo Hernandez sulla sinistra non perdiamo palloni sciocchi il cambio di gioco di Teo è sciocco per fortuna Di Marco fa una cosa posso dire abbastanza incomprensibile non controlla il pallone mancano pochi secondi alle 21 non approfitto andiamo subito in pubblicitario c'è un mille in attacco sì perché Pulisic scambia ancora con Ebram prova ad attaccare centralmente Pulisic che qui forse esagera contrasto con Bastoni commette fallo che ha tanto da farsi perdonare per il gol subito da Pulisic era un po' indeciso se intervenire quando ormai il giocatore americano era entrato in area e non è intervenuto forse per paura di rischiare il calcio di gore però devi tentare l'intervento Acerbi siamo al diciottesimo minuto l'Inter che manovra ora la palla in mezzo all'aria troppo corta viene anticipato Turam la recupera Mkhitaryan per Barella che però è anticipato anche lui l'anticipo di Teo poi fallo di Mkhitaryan cartellino giallo grazie giusto la munizione per Mkhitaryan Teo Hernandez stava ripartendo lo ferma con un fallo come si chiama tattico fallo tattico mi viene la parola calcio di punizione per il Milan è una munizione per il 92 avevamo detto che è un alto Teo Hernandez rispetto a quello visto inizio di stagione con il Milan sembra un po' più simile alternando al suo solito sì ma il Milan che stiamo vedendo è coerente con le dichiarazioni che ha fatto Fonseca che abbiamo anche sentito come dice voi non avete visto come abbiamo lavorato in settimana come si stava in settimana non posso venire qui a dirvi cioè a piangere non è un annuncio ci fa lancio in profondità con la chiusura di Pavard su Morata chiusura di Pavard Morata che resta a terra ma sul pallone l'intervento di Pavard ora Sommer che alza le braccia perché Morata resta a terra quindi butteranno la palla fuori per far intervenire i sanitari i mariani anche che comunica con gli assistenti fuori perché ha preso forse un colpo sul naso Morata vediamo adesso lo rivedremo meglio perché è andato sul pallone Pavard però beh Pavard però niente prende la palla di testa e basta poi vabbè lo scontro di gioco ma non lo prende neanche in faccia non so perché si tocca il naso bravo Pavard non lo prende un po' di scena dai guarda ancora no vabbè allora replay però dico proprio il naso si tocca il naso ma la faccia non l'ha toccata allora vediamo che cosa succede cosa no no ma non succede niente perché si sta per rialzare il Milan anche restituirà la palla di l'Inter grande entusiasmo mi sembra sulle curve del Milan no? eh sì ci credo ma quella dell'Inter praticamente non c'è tipo no 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 c'è c'è non hanno fatto la coreografia classica diciamo coreografia contro coreografia non c'è nulla di coreografia ci sono le soli districioni sì 6500 bandierine distribuite poi ci sarà qualcos'altro all'inizio del secondo tempo stiamo rivedendo il gol bellissimo sì ma io continuo a non capire l'Inter come ha difeso in questa azione cioè sono contentissimo del gol bellissimo gol però onestamente protestavano anche Barella per un tocco di mano se non c'è non dirai la presa di spalla al testo a spalla al testo a spalla diciamo che c'è un precedente ingenuo a Milan di Pulisic però l'aveva presa sotto proprio lui stiamo rivedendo dei film vedo delle facce di un Zaghi i bambini dall'Inter angosciati no diciamo che quella quella palla recuperata è stata diciamo decisiva perché tu comunque vai con la cronaca vai Di Marco sulla sinistra Di Marco che alza la testa lancia per Dumfries dall'altra parte la palla rimane in campo però è toccata da Teo Hernandez credo no quindi pallone per il Milan Teo Hernandez chiudendo su Dumfries lo ha mandato fuori i giri perché non ha toccato il pallone ma ha permesso di fatto al numero 2 dell'Inter di sbagliare l'intervento rimessa per il Milan vicino alla bandierina alla sinistra di Mignan quindi dobbiamo cercare di liberare il prima possibile quella zona di campo ci avviciniamo anche alla metà del primo tempo sempre in vantaggio il Milan con il ruolo al decimo di Pulisic Teo Hernandez con le mani il più lontano possibile da Morata che prova a spondare il Milan perde palla poi Fofanala a scaraventa il più lontano possibile rimessa per l'Inter Rimessa laterale per l'Inter quando entriamo nel ventunesimo minuto quindi già se ne è andato quasi metà del primo tempo e l'Inter non mi è piaciuta per niente nel primo quarto d'ora ha fatto nulla niente adesso dopo il gol forse anche un po' fisiologico sta provando ad abbozzare un controattacco ma finora è lontana dalla porta di Mignan anche se è un'occasione in effetti c'è stata il tiro di Lautaro attenzione ora il lancio per Pavard che può entrare in aria da destra la mette in mezzo arriva Turam che calcia e poi la palla finisce in calcio d'angolo fuori gioco mi sa di Pavardo visto l'armi che calzava il braccio vediamo se è confermato vediamo vediamo dal replay se c'era il fuori gioco in partenza forse sì perché Pavard il lancio è arrivato con un po' di ritardo la palla messa al centro buona si tratta un gabbia rischiato poi qua rischiato tanto perché Turam lo anticipa e poi prende gabbia Turam però dicevo l'occasione importante c'è stata quando non eravamo collegati il tiro di Lautaro alto su un cross di Dumfries da posizione molto e comunque rimane il fatto rimane il fatto che l'Inter scavacca vernicamente il centrocampo del Milan con dei lanci lunghi direi con delle verticalizzazioni mi sembra le due occasioni che ci sono state sono state queste però insomma una cosa veloce prima che si rientri di rivoluzione sta ribattendo il Milan ma non è che l'Inter ha speso troppe tante energie mercoledì un pochino però ha fatto abbastanza rotazione 5 di reti con Morata che scende alle gare ai reparti allora palla per Tigi nel cerchio di centrocampo la conduce centralmente prima di appoggiarsi ancora da Alvarito che si gira allarga bene sulla destra per Emerson Royale poi Fofanà è lui il pilastro centrale della squadra almeno momentaneamente palla centrale su Reinders complicata da gestire ma Tigi in qualche modo prova a venire via poi entra bene Cialanoglu recupera palla Dunfris bravo Cialanoglu anche con un tunnel poi Dunfris per Lautaro che però la perde Fofanà con il recupero palla su Lautaro poi Morata palla dentro su Ebram che deve proteggerla dall'arrivo di Acerbi spalla la porta anche defilato Ebram lavora bene il pallone arrivano in due a coprirlo anche Barella alla fine l'Inter riconquista il possesso bravo Barella Cialanoglu poi Lautaro Dunfris Acerbi si torna da Sommer anche un po' forte il passaggio ma arriva al portiere svizzero che ora allarga sulla sinistra quindi l'Inter che può ripartire ragionare rimettere la testa a posto perché ripeto l'approccio non è stato dei migliori soprattutto Mkhitaryan che è stato anche ammonito e sappiamo che il giallo per Inzaghi è una sentenza nel secondo tempo ci aspettiamo il classico cambio anche se Mkhitaryan è molto intelligente potrebbe provare a gestire questo cartellino ultimamente le faceva già meno due anni fa le faceva di più adesso molto meno soprattutto con Mkhitaryan era uno di quelli che faceva eccezione perché sa gestire però sai con i veloci del Mila tipo Ternandez Leao poi non hai la possibilità insomma di rischiare il fallo ora ancora Inter che lancia la sventagliata di bastoni per Dunfris che viene spesso cercato con questi lanci di testa prova a metterla in mezzo Tomori respinge poi Ebram viene incontro cerca di servire Pulisic il pallone arriva Cristian che lo lavora bene per Morata la mette giù c'è l'ottimo rientro di Di Marco che serve Sommer sì serve Sommer e quindi l'Inter può ripartire ora Bastoni sulla sinistra con Mkhitaryan ancora Di Marco alza la testa va l'indietro ancora per Alessandro Bastoni Di Marco c'ha la Noglu e l'Inter torna a fare l'Inter almeno nel possesso palla irriconoscibile ancora lo devo ripetere nei primi 15 minuti anche buono l'approccio però del Milan ancora Pavard Pavard per Dunfris alza la testa l'olandese rinviene su di lui Leao e allora Dunfris va l'indietro da Barella la fa girare ora in orizzontale 25esimo a Cerbi Pavard fa il centrale però mi sembra sta andando più verso sinistra vediamo adesso se è semplicemente un momento della partita dove vanno a scambiarsi di posizione anche per cercare di confondere un po' le idee all'avversario vediamo un po' se sarà mantenuto questo schieramento con Mkhitaryan che ora allarga sulla sinistra alza la testa Bastoni che viene murato non in fallo laterale bravo Emerson bravo ad intercettare a rilanciare pallone ovviamente che torna tra i piedi di Pavard però bene la chiusura di Emerson c'è Pavard e ora Cerbi in effetti Pavard centro-sinistra Cerbi centro-destra e lasciano Bastoni molta possibilità di andare in avanti mentre c'è Mkhitaryan che lo copre e allora Bastoni che sventaglia da quest'altra parte ora il colpo di testa di Turam che cerca di far viaggiare la palla per Dunfris che però non arriva su questo pallone era troppo lunga rimessa dal fondo dicevo vai Marcello no no dicevo che Dunfris e Teo non si guardano in faccia cioè di nuovo adesso si riaccenderà lo scone vedi c'è già il sorrisetto ironico di Teo quindi mi aspetto scintille prima o poi ma Gigia questa cosa che ho detto dell'Inter che poi ha consumato al di là del turnover tante energie mentali un giorno dopo che ha giocato il Milan e quindi in una partita comunque molto intensa in casa del Manchester City ma io non guardavo invece che come lo scorso perché c'è l'Inter in attacco scusa poi te lo ridò recupera palla Pavard con Mkhitaryan Di Marco torna ancora da Bastoni Inter che trova adesso il fraseggio c'è la Noglue che subisce fallo e manda a quel paese non si sa chi perché Cianoglu si è fatto male non si capisce perché protesta anche ha fatto una brutta entrata l'arbitro dice che si può proseguire Cianoglu si sta alzando a fatica ora si rialza zoppica un po' però si può giocare dice Mariani perché l'Inter ha la palla e quindi si può ripartire con Acerbi e Pavard che è tornato nella sua classica posizione di centrodestra Pavard ancora per vie centrali da Acerbi che però non vuole rischiare con il pressing ancora di uno scatenato Pulisic e allora si riparte con Pavard Acerbi Bastoni che è molto largo a sinistra vediamo se lo serve Acerbi è così ma è corto il passaggio anzi no arriva Di Marco Di Marco che non la controlla bene e se la fa portare via Milan che riparte con Pulisic palla un po' così e così per Ebram che però la lavora bene per Reinders allora Teo Hernandez sulla sinistra può scendere il Milan con Leao e Teo che dialogano prima che Leao riparta addirittura da Tomori nella propria metà campo Gabbia sul versante di destra del campo alza la testa cerca un passaggio filtrante completamente sbagliato bravo Morata però a lottare a recuperare palla con Fofanac che va dentro alla ricerca di Leao peccato perché Leao scivola recupera palla l'Inter anche qua bastone sì mi sembra che Leao siamo quello più simile al Milan però c'è l'Inter in avanti sì perché Dunfris sventaglia per Di Marco Di Marco per Lautaro che si può girare se la porta sul destro poi sul sinistro allunga per Di Marco ancora sul sinistro e il tiro è il gol di Federico Di Marco il pareggio dell'Inter al 28esimo Lautaro se l'è allungata ma poi vede Di Marco nello spazio e con la punta del piede riesce a servirlo sulla sinistra posizione da cui Di Marco non può perdonare Megnani il diagonale è perfetto nell'angolino lontano e quindi Internazionale 1 Milan 1 la rimettiamo in piedi non mi sembra allora Margigio è un gol un po' nato dal caso sì no o no sì poi è chiaro che in quella posizione in area il sinistro di Di Marco è una sentenza però vi posso dire una cosa che non è casuale l'Inter come dicevi tu prima Claudio cambia sempre campo da destra a sinistra in questi cambi di campo i due terzini del Milan spesso sono avanti mentre però dopo vedi come se lo perde qua sbaglia perché si fa attrarre da Lautaro no sbaglia Gabbia no sbaglia Emerson Royale perché si fa attrarre da Lautaro ce ne erano già due perché Emerson va là e lascia Di Marco le sue ma là perché Gabbia è saltato ragazzi Emerson Royale fa un errore incredibile ma perché lasciare Di Marco le sue però Gabbia invece di andare addosso praticamente si stacca di Marco e di Emerson Royale e lui è giusto come diceva Matteo poi a un certo punto va a triplicare sull'autaro al centro per me è l'errore di Emerson è chiaro Claudio che i discorsi che facevamo fino a prima del gol sull'Inter che sembrava un po' stesse giocando sulla falsariga a livello di atteggiamento mentale della gara con Monza evidentemente adesso può cambiare tutto però secondo me la chiave di lettura può essere poi magari il domino al derby è che magari nell'anno in cui hai vinto lo scudetto a livello inconscio ti dedichi un po' di più alla Champions e magari non riesci a trovare la doppia motivazione può essere può essere ma tutto è medio piccolo adesso dobbiamo vedere la tenuta mentale del Milan esatto può cambiare tutto il Milan che ricomincia a far girare il pallone da gabbia Fofana che si abbassa spesso e volentieri sulla linea dei due difensori centrali c'è anche da dire che volendo un errore è anche quello di Tomori che rimane inspiegabilmente bassissimo tenendo in gioco a Di Marco se Tomori fosse salito con tutta la linea Di Marco non è offside ma l'errore di Emerson però sì l'errore di Emerson Royal che esce in maniera troppo avventata di fatto lasciando Di Marco libero Milan che gira palla con gabbia sulla destra però rimaniamo in partita ragazzi perché secondo me abbiamo disputato una buona mezz'ora di gioco almeno fino ad ora Fofana riceve da Pulisic pallone per Tomori Largo Ternandez servito ora Tomori Tomori io non ti etichetto perché sarei offensivo va bene? Rimesso laterale per l'Inter va bene però l'allenatore l'ha preferito a Pavlovich forse è stato un errore questo ha preferito no Gabbia per Pavlovich per me la coppia titolare deve essere Pavlovich-Gabbia poi magari sbaglio io però andiamo avanti con la cronaca l'Inter con l'Inter che riparte alla mezz'ora con Cialanoglu molto basso dalle parti di Pavare Cerbi per aiutare in costruzione si torna da Sommer adesso non bisogna più fare errori difensivi come prima palla lunga per Turam anticipato gravo Tomori palla ancora all'Inter ancora Pavà di testa la palla stavolta va a Barella che la mette giù l'arbitro però ha visto una posizione di offside e quindi punizione ah per il Milan punizione per il Milan fuori gioco probabilmente di Turam su quel lancio di Sommer intercettato da Tomori l'arbitro ha lasciato giocare alla fine il Milan effettivamente ritorna in possesso della sfera con Mariani che indica a Gabbia il giusto posizionamento del pallone dal quale fa riprendere l'azione con il tocco di Fofanà per Reinders Leao cercato sulla sinistra ricomincia da Tomori che riparta addirittura da Mignana all'interno dei propri 16 metri di competenza l'estremo difensore del Milan si appoggia nuovamente da Fick che alza la testa poi vede Reinders lo serve altro scambio con Tomori Fofanà centralmente vada pure l'anticipo di Bastoni ancora Lautaro Bastoni che si inserisce nello spazio e poi viene contrastato da Fofanà in fallo laterale quindi il possesso resta all'Inter 31esimo Bastoni che va a battere è stato molto bravo a recuperare palla però poi non è riuscito ad andare in verticale come avrebbe voluto Cialanoglu ancora per Bastoni che resta lì ormai un centrocampista aggiunto mentre restano i soli Acerbi e Pavar a presidiare la parte centrale della difesa ora Pavar che si deve far perdonare qualcosa rallenta perché vada Acerbi ancora all'indietro Acerbi alza la testa serve Bastoni sulla sinistra va nello spazio di Marco Bastoni però non lo serve torna indietro l'Inter che vuole diciamo rimettere ordine dopo quel primo quarto d'ora adesso è la partita rimessa sulla parità e quindi vuole riaprire il libro del derby dall'inizio anche se gli errori rimangono anche perché senza errori non si segnerebbe mai ancora Mkhitaryan Mkhitaryan ora in verticale per Cialanoglu Cialanoglu sulla tre quarti scambia con Lautaro attenzione ancora 1-2 con Mkhitaryan poi Lautaro subisce fallo il tiro di Di Marco dalla lunga distanza finisce fuori alla sinistra di Mignan e ci prova dalla sua destra Lufri e Marella volevano fare la sua destra negli ultimi dieci minuti più Inter che Milano dai sì mi sembra che abbia accusato un po' il colpo il Milano non vorrei che si deprimessero dopo aver fatto un buon lavoro per mezz'ora diciamo 25 minuti non si deprimessero sul fatto che adesso hanno preso il pareggio lo stadio si scalda è tutto interista sarebbe un grave errore dovrebbero spero una reazione immediata una squadra che è quella che dice Fonseca di Campioni non si sbagli però in questo momento li ho visti un po' sbandare però rivedendo il replay del gol del Linton come prima nel gol di Pulisic che è stata una follia della difesa del Linton poi si è stata una follia nel lasciare Di Marco totalmente libero Varella una bella giocata come in occasione del gol prima abbiamo riapprezzato nel replay il bellissimo lancio di Varella ora l'Inter perde palla in verticale perché Hernández recupera regala palla a Tio Hernández ma aveva fatto un errore Tomori in fase di impostazione adesso si ripassa ancora da Tomori che gioca dei palloni alquanto particolari ancora un intervento di Bastoni poi Lautaro Fofanà alla fine la difesa del Milan che ricomincia da Gabbia basta fare impostare Tomori perché abbiamo capito che non è l'uomo giusto per impostare dal basso lancio di Gabbia sulla destra questa è una buona palla per Pulisic a contrasto con Bastoni che vince il duello poi crolla a terra c'è fallo di Pulisic ai danni di Bastoni calcio di punizione per l'Inter delle marcatura a uovo però fisicamente mi sembra che Bastoni sovrasti totalmente fisicamente Pulisic non è Bagigia? Beh quello sì ma soprattutto Bastoni sta giocando molto alto in pressione e quindi sta dando un contributo importante praticamente per andare a fare la superiorità numerica infatti se vedi il Milan fa fatica a uscire manovrando cioè ultimamente ha lanciato e anche male certo comunque ragazzi questa è una fascia dove l'Inter può davvero fare male c'è Di Marco su Emerson Royale ancora Di Marco che la mette in mezzo troppo su Mignan bastoni su Dumfries e Barella occhio al Milan perché riparte con Reinders già dalla parte opposta ma tu fai no questa palla qua sbagliata per Leao cioè Reinders ha dato una palla verticale dentro e l'abbiamo andato in contro capito ma devi guardare l'Inter era un po' scoperta su questa ripartenza c'erano anche due uomini sulla destra in mezzo sì sì dicevi il gol Barella che va a cercare Di Marco oppure dall'altra parte Bastoni che spesso cerca Dumfries i cambi di campo li soffrono un po' i terzini del Milan però guardate il volume di gioco degli esterni del Milan quanta roba fa Pulisic tanto e quanta non ne fa Leao ma vabbè ma l'interno Lautaro per Di Marco un po' corto il passaggio di Lautaro ma Di Marco ci arriva e torna indietro da Mkhitaryan che deve ragionare ora va ancora da Lautaro che allarga a sinistra per Bastoni in posizione come al solito molto avanzata c'è Di Marco che si propone viene servito il numero 32 a sinistra sempre libero la palla viene sporcata e quindi poi Gabbia può rinviare dalle parti di Ebram che va a contrasto con Acerbi vediamo se tiene in campo palla Tammi no non ci riesce rimessa per l'Inter nei derby quindi vediamo di continuare nella serie nelle partite secche Mosconi deve rispondere però sta prendendo capo Borrelli si è allargato poca volta mai con il Milan vai Reinders recupera bene Palatio Hernandez nel duello aereo con Barella con Reinders retropassaggio di Raffa dalle parti di Tomori c'è Barella che si agita moltissimo non so con chi ce l'ha credo con anche secondo me bravo Morata a venire in contro ad allargare sulla sinistra per Teo Hernandez Leao Reinders centralmente pressato anche se non con tutta questa foga da Turam allora TG si gira osserva il posizionamento dei compagni prima di servire Gabbia sulla destra alza la testa Matthew Cage prima di andare probabilmente al servizio per Emerson Royale così pallone proprio per il 22 Pulisi che è l'ultima a toccare rimessa per l'Inter perché paura della sostituzione nel secondo tempo perché spesso parte la sostituzione per gli ammoniti all'Inter siamo dentro al 41esimo vai Matteo rimessa laterale per il Milan con Teo Hernandez che la batte di fatto davanti alla panchina di Fonseca scambia con Ebram ne va a prendere un'altra sul pressing di Niccolò Barella e allora altra rimessa laterale per i Rossoneri quando ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo siamo a 40 e 30 sul cronometro 1 a 1 il risultato a San Siro al gol di Pulisi che ha risposto Di Marco per la rete del pareggio Teo Hernandez attende ancora qualche istante prima di rimettere in gioco il pallone vorrebbe palla Fofanà Teo Hernandez non lo serve Fofanà gliela chiama va di prima intenzione alla ricerca di Morata l'ultimo tocco mi sembra evidentemente di Pavard no ragazzi qua la rimessa è per il Milan però sarà stato Ebram che però non è d'accordo adesso magari ce lo fanno rivedere mi sembrava di Pavard con la punta del piede però Mariani dice rimessa nerazzurra e quindi riparte l'Inter dalla difesa Pavard a Cerbi 42esimo mancano meno di 4 minuti quindi alla fine di questo primo tempo non esaltante approccio buono del Milan poi è venuta fuori un po' l'Inter però non la solita Inter diciamo delle migliori serate siamo 1-1 con il pareggio di Di Marco dopo il gol di Pulisic Barella nel cerchio del centrocampo alza la testa rallenta chiama i suoi un po' nervoso eh Nicolò sei calmo ancora Pavard che avanza su Dunfis sulla destra Pavard si propone allora Dunfis può alzare la testa potrebbe anche grossare da lì avanza ridosso dell'aria di rigore poi la palla in mezzo per Lautaro che la mette giù per Turam che si può girare Turam il tiro grande Mike grande Mike e poi grande Mike grandissimo parata di Mike grandissima parata di Mike però difesa del Milan grandissima parata di Mike ancora statica statica sì sì Lautaro Turam sta pensare no però guarda Lautaro Turam Turam che se la porta sul destro tutto però telefonato non vanno in pressione marcano a distanza marcano a distanza non va bene con l'Inter non va bene marcano a distanza bravo bravo megnano grazie grande parazione quasi fa io l'ho vista dentro è immensa io ho sognato dentro ti diciamo di cronista vai attenzione Inter calcio d'angolo c'è la no-gru di Marco ancora c'è la no-gru per Di Marco scambiano i due Di Marco può crossare finalmente arriva il cross Turam che spreca di testa fuori Turam qua poteva indirizzarla meglio ancora una volta non marcato e di testa però non riesce a schiacciarla dritto ma la vuole angolare forse troppo vediamo Morata va a vuoto e qui Turam spreca un'occasione faccio un commento Bagigia santo intervallo cioè devono pregare per il Milan santo intervallo che si arrivi all'intervallo perché adesso l'Inter sta proprio prendendo però dico santo intervallo invocare all'intervallo nel senso che arrivi perché no è praticamente si è azzerata la buona partenza con il vantaggio l'abbiamo già visto il pallone buono per Morata attacca il Milan il buono ma ne a terra fallo credo che gli ha dato una gomitata a forse non proprio voluta in faccia ma l'ha presa in faccia allora anche prima su Ebram Cerbi ha dato una gomitata ha fatto giocare l'arbitro vediamo vediamo il replay che succede allora Cerbi verrà leao e anche qua leao va a terra e si tiene il volto poi si sorride vediamo invece Morata e Cialanoglu no non ce lo fanno rivedere Mariani dice calma calma è successo tra Morata e Cialanoglu credo si tra Morata e Cialanoglu tra Morata e Cialanoglu io l'ho fatto apposta stavo andando in porta questo sta richiamando tu Hernandez l'arbitro credo i due capitani Lautaro e te si infatti gli stai dicendo viene un attimo Teo a me sembrava che semplicemente per guadagnare la posizione si è in vola ecco forse qua lo rivediamo ecco qua ma se dai che Cialanoglu è un bel furgone va bene così non è che affondi no ma si è di vincolazzo la correnda ha fatto così si è di vincolazzo l'ha preso sul petto c'è la no lo si tocca al volto diciamo che tra lui e leao la scena l'ha fatta entrambi dai non c'era niente non c'era Chirico che il Milan tranne il gol non ha fatto un tiro in porta no non è vero Morata ha alzato il Sommar ha fatto un tiro in porta nei primi 25 minuti aveva anche creato delle cose molto più interessanti dell'Inter che sembrava un po' narcotizzata un po' spaisata poi non appena hanno sbloccato sono stappati col gol di Mark è venuto fuori l'Inter e adesso sono in sofferenza c'è sofferenza anche perché l'Inter aveva una certa frequenza rapidità all'area di rivoluzione per esempio adesso Bastoni lancia lungo per Dunfris e l'Inter con due passaggi riesce a arrivare al ridosso dell'aria però sbaglia Barella e non chiude il triangolo bravo Teo Hernandez a chiudere su Barella però sbaglia allora c'è Lautaro a limite dell'aria se la porta sul destro poi sul sinistro ancora sul destro cincischia troppo però il capitano ora allarga per Di Marco buona idea perché Di Marco magari può crossare da lì il cross arriva ma è fuori misura troppo forte per Barella che la rimette a terra dall'altra parte ancora il cross da destra a sinistra e poi la palla va in angolo perché Emerson Royale non c'era nessuno vicino a lui ma la butta fuori l'Inter però imprecisa ragazzi questi passaggi lunghi da destra a sinistra ora ci fanno rivedere un altro contrasto tra Ternandes e Cialanoglu però c'è il calcio d'angolo andiamo sul calcio d'angolo perché c'è un minuto di recupero e potrebbe chiudersi qua Sant'Intervallo e Claudio no Sant'Intervallo quindi anche l'intervallo è l'intervallo attaccato per l'entatore Sant'Intervallo questo è il santo Inter Megnan Dunfris a terra dai Dunfris Denzel rialzati perché sei prezioso è un po' scorretta è un po' di nervosismo dal tredicesimo che sono iniziati non vuole essere la vittima sacrificale l'Inter adesso sta alzando un po' Dunfris andando all'indietro prende Megnan cadono tutti e due Megnan se lo tira giù calcio d'angolo Cialanoglu lo mette in mezzo sul primo pallo la spizzata di Pavard verso nessuno palla che esce dall'altra parte e questo è uno schema venuto un po' male anche se proprio cinque mesi riuscì sull'1-0 Pavard a Cervi di testa ma era più corto all'epoca il passaggio di Pavard quindi sta per concludersi il primo tempo perché ormai è passato anche il minuto di recupero Megnan mette lentamente il pallone a terra ma qui Mariani sul rinvio dovrebbe decretare la fine del primo tempo formalmente tocca a Mosconi rimessa dal fondo per il Milan credo mi allina quanto diceva Michele che sul rilancio di Megnan si andrà negli spogliatoi col punteggio di 1-1 santo intervallo mi allina la dichiarazione di Claudio rilancio Di Megnan fissetto in bocca per Mariani finisce il primo tempo 1-1 tra Inter e Milan santo intervallo i due cronisti fanno l'analisi di Inter-Mila cominciamo contrasto al centrocampo e bravo Pulisic però Pavard non riesce a contrastare poi poco alla volta poco alla volta l'Inter risale la corrente Di Marco pareggia al 28esimo su un bel passaggio di Lautaro la difesa del Milan dà l'impressione di essere imprecisa e l'Inter due o tre volte poteva approfittarne è andata almeno due volte vicina al gol però imprecisa nell'ultima stoccata quindi 1-1 a fine primo tempo Mosconi direi che Michele ha analizzato bene il Milan secondo me è partito molto bene ha fatto un quarto d'ora a livello intenso anche con voglia trovando anche il gol poi è chiaro io direi anche forse fino al gol del pareggio dell'Inter credo che il Milan abbia giocato una discreta partita poi è chiaro che l'Inter ha più ritmo è più forte anche probabilmente come gruppo e quindi ti sovrasti però credo che a fine primo tempo il risultato sia giusto alla fine perché i tiri in porta lo diceva Michele sono due per parte è vero che quello di Turam è nettamente più pericoloso del tiro di Morata però i dati dicono che tutto sia in pareggio metto voi due preparate degli immensi up and down che sono 6 3 3 3 poi non li facciamo proprio tutti in maniera burocratica come sapete e mentre chiedo alla regia di cercare il nostro milanista doc che nella vita fa l'avvocato non sono sbaglio sono Paolo Vinci che oramai è smesso è chiuso lo studio tutte e due pubblicista quindi l'avvocato giornalista 9 personalità cerchiate Paolo Vinci così sentiamo da un milanista doc le sue impressioni lì facciamo l'analisi invece diciamo vostra Bargigia Chirico di che partita avete visto io ti dico dal punto di vista tecnico non è stato un primo tempo bellissimo pulito però comunque c'è intensità è abbastanza interessante e diciamo che le cose migliori alla lunga le ha fatte l'Inter cioè c'è stata la fiammata del Milan però poi da parte Duram ha tirato alto di controbalzo sull'autaro Duram ha fatto un miracolo Mignan e quella e poi di testa Duram fuori qualche cosa potevano pure al di là dei singoli episodi però dall'Inter abbiamo visto delle belle cose cioè i cambi di campo cercare di Marco invece il Milan praticamente dal punto di vista tecnico ha fatto vedere poco nel senso che è andata molto in difficoltà nell'uscire con la palla ha fatto molti lanci quindi ecco la mia la mia fotografia è questa e se Marcello non ti offendi sentiamo subito vai 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 tranquillo Paolo Vinci dallo stadio mi senti? Ciao direttore ti sento benissimo buonasera a te buonasera a tutti gli ospiti io ho scherzato prima ho detto che hai chiuso il tuo studio di avvocato giocavo ovviamente stasera sono provocatore da so muro qui già dalle 20 e 25 che partita hai visto? magari era chiuso davvero che partita hai visto Paolo insomma 20 minuti ma ho visto un Milan a 20 minuti sfolgorante con Pulisic soprattutto e con un ottimo Teo Hernandez sulla fascia sinistra poi nella seconda parte invece abbiamo visto l'Inter che è uscita il pareggio è dovuto al fatto che sulla stennesima fascia destra il Milan lascia molto a desiderare c'è molto squilibrio fra una fascia e l'altra diciamo che il Milan gioca troppo abbottonato adesso con giocatori che non sono all'altezza di essere abbottonati perché è iniziato bene quando ha fatto il pressing alto con un 4-2-4 e poi c'è qualcuno assente completamente come Leao qui si vocifera che forse sarebbe il caso di sostituirlo allora ti interrompo qui e ti richiamo alla fine della partita magari ti tengo qualche secondo in più alla fine della partita così almeno un ambiente che si è riscaldato comunque parlo dell'ambiente nella seconda parte del suo tempo inizialmente non era caldissimo va bene Marcello tu ti aspetti ti aspetti ti aspetti qualche sostituzione in casa non mi aspetto una sostituzione che chiede Paolo però quella di Leao è vero che Leao non ha fatto a 46esimo però tu in una paria del genere non puoi levare Leao sono d'accordo beh ieri morta ho tolto bravi follia poi ne parliamo poi ne parliamo però in una paria del genere perché comunque no per il semplice motivo che secondo me fin quando tieni dei riferimenti come Teo e Leo e Leao in campo tu comunque impensierisci un pochino la diffusa del delirio nel caso dovesse essere sostituito tenendo i due attaccanti Abram e Morata chi mettereste voi? e chi è che può fare il quarto di sinistra? mi viene il dubbio su chi possa fare il quarto di sinistra vai a mettere Locaforma un'altra punta chi c'è in panchina? non so chi è in panchina? vuoi mettere Musa fare il terzino a sinistra però a Marcello queste cose dei nomi ce le raccontiamo solo noi se togli Leao vai a rinforzare un po' dietro perché si è visto che l'Inter arriva con rapidità all'area di rigore lì ci rimane il solo discorso che il centrocampo fa poco filtro e quindi facendo poco filtro se dici come tu sono d'accordo con te fai la follia pragmatica però e non di bandiera di togliere un potenziale non è che guardo la figurina è che guardando i giocatori che ha a disposizione il Milan secondo me Leao in questo momento gli lascio almeno un quarto d'ora 20 minuti per capire se devo sostituirlo o no ma sapete Fonseca che tra l'altro chiedeva a Pulisic di venire dentro al campo e a Leao di rimanere largo quindi era pure una richiesta di rimanere largo magari lo devo cercare di più ma Fonseca dirà alla squadra adesso avete visto che se noi andiamo avanti nel primo quarto d'ora primi 20 minuti abbiamo fatto bene poi invece vi siete lasciati un po' dal punteggio quindi lui non toglie Leao e continuerà a chiedere alla squadra di andare avanti si sono verificate due cose che hanno messo in difficoltà il fatto che a centro campo sono andati in difficoltà quando Bastoni salzava e quindi ha fatto superiorità numerica e anche intercettò dei palloni e poi praticamente un centro campo saltato con i cambi con i cambi di faccia di una precisione e poi due centrali diciamo che l'interno non ha segnato perché hanno marcato bene perché hanno fatto degli errori negli scambi ma i due difensori hanno sempre l'idea di non riuscire a tenere i loro dirimpetai no però vedi per esempio tu vedi parlavamo dei due esterni di Leao tu vedi Pulisic che combatte anche quando non è quando non è propositivo in fase offensiva cioè comunque fa la guerra lì si prende si prende a spallate si butta e tu c'è Leao non tiene impegnato nessuno però questa cosa della differenza ecco adesso vedevo anche i tiri totali perché i tiri in porta sono 2 a 2 però se vai a vedere i tiri fuori 4 a 0 i tiri respinti 2 a 0 il possesso 55 4 a 5 i calci d'angolo 4 a 1 per leggere sì però dico poi anche i numeri te lo dicono perché poi dal ventesimo in poi il Milan ha smesso di fare quello che stava facendo ragazzi scusate dal ventesimo in poi vuol dire da metà tempo cioè sì sì quindi vuol dire che metà tempo su Milano è la partita non è pari non è pari nel risultato ma nello sviluppo del gioco se tu dalle parti di Sommer ti ricordi cose vogliamo fare una sintesi rispetto a quello che ci siamo detti velocemente nei minuti iniziali avevamo tante notizie da dare quindi siamo stati rapidi mi sembra che fino a questo momento il Milan abbia dato comunque una reazione di orgoglio mentale e di squadra dopo le contestazioni dei tifosi e dopo diciamo la tragedia diciamo complessiva di Milano e Liverpool di martedì ma non è ancora squadra fatica fatica in alcuni casi a livello individuale ma io non ho visto non so se l'avete visto voi un gioco vero del Milan che ha portato così abbiamo visto delle grandi fiammate individuali un po' più di sostanza un pochino più di sostanza nei primi 20 minuti anche un pochino dietro nei primi 20 minuti l'Inter era messo in difficoltà però non ho visto un gioco mentre invece nell'Inter abbiamo visto una squadra in difficoltà prima ma poi ha cominciato a giocare quando gioca ha un gioco ha un canovario ha degli ingranaggi io questa cosa qui che trovo incredibile cioè a questo punto vabbè però uno è un quarto anno e l'altro è un mese si è un mese però è vero che dopo un mese a questo punto siamo al momento della stagione dove qualcosa si deve comunque vedere al di là delle chiacchiere degli annunci e dei moduli come sapete che io li considero per quelli che sono spesso astratti perché poi le domini che vanno in campo le compone sono in campo le devono riempire siamo ancora bla bla la squadra non la vedo Bargiccia non so se no 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 ma è chiaro è chiaro perché probabilmente non è nemmeno una squadra che a livello caratteriale a livello di aggressività ne ha molta hai capito cioè al di là delle lacune tattiche o delle caratteristiche dei giocatori cioè è una squadra che combatte poco cioè probabilmente questo è un bamboccioni oggi in mezzo beh all'inizio in mezzo no a parte Leao no a parte Leao che la squadra ti ho visto combattere te è cresciuto anche tu Mori che sbaglia tanto però va con cattiveria non combattire mi sembra fosse solo Leao l'unico a quella cosa lì a me a rendersi Fofanà poi non sono piaciuti tanto perché sono stati sovrastati sono stati sovrastati così niente cioè sono stati sovrastati però lì è la chiave di tutto se due vengono sovrastati tra due centrocampisti non funzioni se tu hai una difesa fragile e sei sovrastato in quel punto del campo la partita è andata Claudio se sei saltato in mezzo poi vedi che ovviamente la difesa va in difficoltà perché noi abbiamo visto Gabbia lì non è uscito Tomori aveva mollato Di Marco sul gole e però perché vanno in difficoltà perché non sono protetti cioè alla fine capisci si hanno partiti di recuperare la palla alta se non ci riesci va in difficoltà ma certo alla fine comunque vediamo lo stesso Milan con un modulo diverso però sostanzialmente lo stesso Milan per adesso allora ci perdiamo ancora un minuto poi dobbiamo andare in pubblicità e voi due adesso vediamo due app veloci sì app e down dai allora facile mettere app Di Marco Di Marco per me è migliore in campo Di Marco migliore è il giocatore in assoluto più in forma dell'Inter la vediamo vediamo la grafica quindi gli do un bel 7 e mezzo anche se è solo il primo tempo però gol il migliore in campo come diceva Marcello e poi un secondo ti dico anche Bastoni come diceva Paolo è andato molto bene alimentare l'azione e quindi diciamo te ne dico due su e due giù i due giù quindi i voti i voti a Bastoni gli do un bel 6 e mezzo 6 e mezzo 6 e mezzo ti do Pavar 5 Pavar 5 perché sul gol ha dormito e Mkhitaryan 5 e mezzo la munizione si è fatta anticipare da Pulisic non è il solito Mkhitaryan dell'anno scorso anche oggi 5 e mezzo vediamo che venga scritto il voto anche qui 5 e mezzo up and down del Milan Mosconi velocemente dobbiamo andare in pubblicità velocissimamente allora up io sicuramente ci metto Pulisic direi che del Milan è stato in assoluto il migliore non solo per il gol ma anche per la voglia quindi Pulisic 7 sicuramente e poi mi è piaciuto Teo Hernandez a me mi sembra che sia concentrato mi sembra che la sinistra stia facendo un'ottima partita quindi quando gioca bene bisogna dare i meriti a Teo 6 e mezzo anche a Teo Hernandez i due peggiori del Milan i due peggiori del Milan sono Emerson Royal con un 5 e Leao con un 5 perché non è entrato in partita vediamo che venga scritto così tutti quanti anche da casa chi ci segue può vederlo ecco qua Emerson Royal 5 e Leao 5 e Leao 5 e Leao vediamo qui allora contro misure ma non mi sembra che in panchina di Milan ci siano grossi movimenti per ora credo che Milan andrà avanti con questi almeno momentaneamente nel frattempo Mignan va al rilancio in profondità non ho capito la sostituzione di Ciala io un giocatore non toglierei mai Morata col tacco Reinders Ebram ancora Morata di testa mettiamo giusto pallone bravo Fofanà ad indirizzare sulla sinistra per Teo Hernandez che poi alza la testa vede Leao lì vicino alla fine manovra proprio su Rafa che poi chiude bene il triangolo centralmente con Fofanà che gli restituisce Reao deve puntare Darmiana entra in area Rafa c'era sul destro calciamo pala per Tigi destro deviazione miracolo di Sommer ancora calcio d'angolo altra opportunità per il Milan con il destro di Reinders forte centrale bravo Sommer deviato anche deviato secondo me molto bravo Sommer sta salvando il link Sommer sta facendo parate sta facendo parate io megnanna di parate nel secondo tempo nel secondo tempo due parate ottime di Sommer questa è la seconda ma è sempre Pavard che è andato in scicola sempre Pavard sempre calcio d'angolo per il Milan dai ragazzi dai dai crediamoci Pavard vuole scendere sotto il 5 no Pavard vuole farsi espellere perché se lo prendi ancora bene alle A non è ancora munito però se no lo toglie perché meritava il giallo questo è un altro instrumento rischio se lo prende il rosso diretto calcio d'angolo per il Milan vediamo se creiamo qualcosa di intrigante dalla bandierina quando solitamente è l'Inter a far male sui piazzati dalla bandierina andrà con il sinistro Teo Hernandez mischione furibondo di fronte a Sommer Vateo con il sinistro basso raso terra il pallone passa sul secondo palo rimane buono chiedono un tocco col mano calcio di rigore calcio di rigore per il Milan tocco di braccio visto da Mariani e sanzionato con il penalty vediamo di chi io non l'avevo visto ragazzi devo essere sincero a me non sembrava mano però vediamo vediamo forse la parte alta del braccio voglio vedere dove voglio rivederlo anch'io perché qui c'è la spizzata ma no non ne rigore mai non ne rigore mai ragazzi anche se lui va proprio ha rischiato l'autaro perché il movimento è verso il pallone non la prende per il risparmio ma anche Mariani ha detto spalla ha detto anche lui lo toglie non è rigore ha annullato il rigore premia giustamente l'autaro fa il movimento verso il pallone ma non la prende con questa parte qua ma la prende con la spalla qui quindi giustamente non è calcio di rigore si ripartirà credo da un possesso per può ripartire l'Inter pericolo scampato qua l'autaro era andato molto convinto nelle proteste poi però abbiamo visto nel rete e si è capito meglio Di Marco Di Marco che ora lancia Inter che però deve eh no il lancio è nel nulla dalle parti di Mignan secondo tempo negativo dell'Inter Matteo Hernandez servito da Mike a Milan che tra l'altro fanno vedere per statistica è la seconda squadra dopo il Napoli di aver segnato in primi 4 giornate un gol dal 61esimo al 90esimo lancio di Gabbia la ricerca di Pulisic mamma Matteo questi palloni così era buona l'idea completamente sbagliato il lancio rimessa per l'Inter io credo che comunque quello che dicevi tu prima Matteo su Cialanoglu attirerà se la partita non dovesse andare per il verso giusto per l'Inter un po' di critiche per Inzaghi perché Michi Tarjan che diciamo sono già 4-5 giornate che non è che è come l'anno scorso il migliore quindi ci sta monito non sei il migliore però Cialanoglu magari gli chiedi di stare attento si è preso insomma un gran ha avuto coraggio a mettere Aslani però è anche vero che questi giocatori devono crescere tipo Aslani anche in queste partite però ha ragione Matteo uno come Cialanoglu ha i faticatori ho detto anch'io insomma avrei fatto molta partita fai le prove dei giovani in queste partite ma a voi sembra che stasera Cialanoglu stessa faccia no però è più un giocatore non è eccezionale è il stesso ragionamento che fa la linta la recupera al Milan con Reinders che poi d'esterno cerca le AO in ara di rigore il pallone diventa buono incredibile rimpallo morata col destro alto dai ragazzi dai che ci siamo adesso forza il ragionamento che faccio su Cialanoglu è lo stesso che faccio su Leao è vero non sto brillando però se lo tengo lì qualcosa magari mi succede infatti hai visto Leao che è stato molto più vivace in questo secondo tempo che nel primo quindi meno male averlo tenuto lì io Cialanoglu hai ragione io condivido la monito in zaghi giusto credo giusto Claudio giustissimo ecco eh sì è una questione di scala di valori non è che ho capito qualcosa ma no c'è da dire che Cialanoglu ecco se vogliamo andare a prendere qualcosa che può essere successo nel passato e che già aveva rifiattato a Monza perché veniva dalle nazionali non stava bene ma infatti è uscito controvoli lo hai visto con che faccia è uscito anche se la sentiva di giocare la partita che ho più dai Inter che ora gestisce il pallone con Aslani proprio da ultimo come faceva Cialanoglu e Inter che ora va sulla destra vediamo se con Darmian va meglio da quella parte più precisi più precisi ragazzi ancora Turam che allarga per Pavard Pavard per Turam ancora Turam da Darmian Darmian che si deve girare lascia Turam è in aria di rigore ma ha defilato sulla destra stai spinto alle spalle da Ternandes dice niente Mariani con la palla di Leao centrale su Morata c'è tanto spazio attacchiamolo ragazzi palla di Morata per Pulisic c'è il repubro travo di Marcos su pallone meglio ragazzi su ste ripartenze meglio che sono scoperti loro se li attacchiamo tutti a sinistra dovevate aprire a destra se c'era qualcuno che si faceva vedere riparte l'Inter Gombarella e Frattesi Frattesi che va da Pavard che prova a ripartire da quella parte da destra c'è ancora Frattesi in verticale per Turam l'idea era buona ma non l'esecuzione Reinders sul tocco di Tomori conquista il pallone il Milan può attaccare ancora spazio per Morata dai ragazzi Morata allarga bene per Leao c'è Slani su di lui puntalo Rafa Rafa entra in aria ce l'ha sul destra a giro centrale blocca Sommer che sta parando solo lui nel secondo tempo qui Leao poteva fare meglio dai Rafa dai vai con l'Inter solita robina centrale Inter che riparte ma nel secondo tempo non è riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Mignan vediamo ora di essere più razionali anche pragmatici perché Turam e Lautaro ci sono quindi vanno serviti bene dai Bastoni che ora va al piccolo trotto Aslani ancora per vie centrali tutti chiamano i movimenti ma bisogna poi fare le cose semplici ancora Bastoni che chiede ecco qua non ci sono in mezzo al campo Ciavanoglu appunto di Chiarian allora chiedono un po' di andare a Barella in mezzo al campo per dare punti di riferimento perché non si può poi svuotare il centrocampo ancora Bastoni Bastoni che alza la testa con Barella a fianco a lui c'è anche Acerbi allora Bastoni parte va da Turam ancora Acerbi sulla sinistra c'è anche Di Marco però non potete andare tutti si torna indietro si va da Barella e quindi Barella fa ripartire l'azione con Aslani che è l'ultimo uomo dell'Inter Aslani allarga a destra per Darmian che fa avanzare Pavard Pavard che può alzare la testa vediamo se crossa ma siamo sulla tre quarti quindi non è il posto dove crossare meglio e infatti torna indietro Inter che si accontenta del possesso e ricomincia a girare vediamo se poi trova l'imbucata giusta ora con Bastoni che ha la tecnica per mettere questo pallone bene vediamo alza la testa ancora Bastoni in aria di rigore buona Lautaro anticipato che peccato Lautaro poi Rafa con calma sei solo Rafa girati con calma c'è Pavard di fronte a lui Leao punta un po' Pavard rientra anche già prova ad andare via c'è l'intervento regolare Frattesi che vince il contrasto allora l'inter se ne va con Lautaro a destra Lautaro che torna indietro vedete Hernández e allora fa girare il pallone per Aslani però veloci veloci dai Barella troppa lentezza ancora Nicolò guarda Bastoni mamma mia il piccolo trotto l'inter sta camminando sì camminano Cerbi ancora Bastoni sulla sinistra alza la testa vediamo se crossa bene vede sul secondo palo Pavard che la mette a terra la stoppa la mette in mezzo troppo lentamente dove non c'è nessuno perché veramente insomma abbiamo visto una quantità di falli abbiamo visto una quantità di falli da parte dei giochi quello di Pavard era un giallo netto quella scivolata brutta è però se non esce un difensore cambia un po' il principio mentale di una difesa se finisce così Claudio se finisce così sintesi giornalistica è un pari se finisce così entra Ciunquezza scusami Paolo vediamo se è uscito Leao fuori Leao ed entra Ciunquezza però secondo me c'è un po' un vincitore virtuale che era stato massacrato Fonseca c'è dubbio non l'ha accettata Leao vediamo vediamo Emerson Royale non perdiamo palla Emerson per favore e vi dirò che stasera ha ragione Leao incavola no ma guarda Turam Fofanà farlo dire farlo Marcello guarda che di buono Leao ha fatto solo quel colpo di testa vediamo vediamo Arenders apertura per Ocafora adesso Ocafora è dato a sinistra Ciunquezza a destra si butta Teo Hernandez lo serve Ocafora Teo in area arriva il cross forte la palla rimane buona respinta da Sommer poi lo scarico di Loftus per Reinders che non calcia Reinders finta palla sul mancino in area Reinders calcia ora addosso il difessore ancora Tici Milan che rimane in attacco tocco di mano netto di Turam netto direttore il tocco di mano qua di Turam era una punizione al limite dell'area che avrei voluto volentieri non ce l'avevo a me c'era il direttore di Gano sembrava che Turam l'avesse presa con una mano anche a me sembrava è sicuro che l'ha presa di mano bisogna vedere c'è lo spazio per l'Oftus cheat che va via fallo di Di Marco cartellino giallo grazie ammonito anche Di Marco punizione per me andate ragazzi crediamoci la possiamo portare a casa sta partita da un punto di vista così è una cosa un po' inguardabile per i campioni italiani e tutti questi falli insomma sono è perché sono in difficoltà sono sempre in ritardo questo è in ritardo sono in ritardo sono in difficoltà ce la fanno più non ne hanno più non ne hanno più ma tutto il secondo tempo è stato un calando gli sta andando bene è andata bene infatti la mia sintesi è che nel primo tempo ai punti l'Inter ha fatto quella mezz'ora nel secondo tempo è stata salvata nel secondo è stata salvata da Leao da Sommer però anche da Ebram e Leao che si sono un po' mangiati però in questo momento il Milan sta tirando fuori l'orgoglio c'è la voglia di andare a vincere questo derby che Hernandez e Reinders sul punto di battuta per questo calcio di punizione vediamo se lo sfruttiamo va Reinders prossimo Riccardo METTI UN CAGE METTI UN CAGE 2-1 all'ottantanovesimo GAMBIONE GAMBIONE dai ragazzi meritatissimo meritatissimo GAMBIONE mio METTI UN CAGE 2-1 di testa Sì Sì METTI UN CAGE METTI UN CAGE Onestamente dal di là dell'entusiasmo comprensibile del nostro giovane Matteo meritatissimo gol bellissimo lo vogliamo Matthew Cage lo vogliamo rivedere questo gol aspetta aspetta lo vediamo con le immagini anche nostre nel replay così almeno lo riracconti insomma lo riracconti in atti qui chiaramente adesso le inquadrature vanno e le varie reazioni allo stadio eccolo qua andiamo se tutto regolare Gabbia parte da dietro cross bellissimo di rendersi spacco di Gabbia perfetto di testa pallone all'incrocio dei pali immobile Sommer 2-1 meritatissimo ragazzi dai posso dire che ha fatto un gol bellissimo ragazzi ma posso dire che stasera c'è un altro vincitore Chirico l'aveva detto aspetta 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 non è finito niente va bene ma quando finiamo la fine ne parliamo però è finita dai dai per favore mancano 40 secondi hanno 90 sono bambini che piangono vediamo vediamo cosa succede un attimino è ricominciata vai Inter ultimo minuto più recupero almeno per provare a non perdere questa partita dove l'Inter nel secondo tempo davvero non ha fatto niente per vincerla e si era salvata più volte era quasi un pugile alle corde poi alla fine è arrivata la stoccata il pugno spero ancora non del K.O è andata bene Michele è andata bene perché poteva finire 3-1 siamo 2-1 quindi adesso non va bene Carlos Augusto che la riesce a tenere in campo e poi guadagna un fallo laterale dai ragazzi le ultime possibilità vediamo quanto recupero verrà dato recupero quanto vediamo Carlos Augusto 6 minuti di recupero 6 per 6 36 ma io ho la mia idea che poi non la dico stasera sono avrabbiata sull'arbitro Carlos Augusto che batte questo fallo laterale in aria dove non c'è nessuna maglia nera azzurra però ora c'è Lautaro che recupera palla fuori dall'aria ancora il Toro che vince un rimpallo con Teo Hernandez ancora Lautaro calcio d'angolo per l'Inter dai tutti a saltare dai ragazzi un altro colpo di testa però dall'altra parte 6 minuti 6 minuti sembrano tanti però vabbè ma c'è stato un bar perché un bar di 2 secondi le sostituzioni fatte negli slot 5 ci stavano ma 4 era più che 5 da 4 minuti calcio d'angolo per l'Inter alla sinistra di Mignan tutti a saltare forza ragazzi palla in mezzo troppo su Mignan Turam che anticipato e punizione bravo Emerson bravo Emerson gran secondo tempo di Emerson Royale ragazzi ha fatto un gran secondo tempo Emerson Royale entra Pavlovich al 92esimo per le palle alte giustamente perché adesso l'Inter andrà in aria di rigore qui è stato bravissimo Emerson a farsi caricare da Turam non lo so se andrà in aria di rigore perché un Inter è irriconoscibile in questo secondo tempo adesso non so se è una questione fisica però credo di sì perché non è che in termini puoi non tenerci quindi è più una questione fisica bellissimo quelli che si vedono raramente nel nostro questo è imprendibile Matthew Cage a meno che ha un 6 uomo ragno chi dava l'Inter favorita per lo Scudetto secondo me io non ero per quelli però voglio dire adesso alla fine poi è lunghissima però hai fatto un punto a Monza e no? vabbè andiamo con la grona siamo 91 e 86 punizione per noi viene chiaramente ritardata la battuta di questo calcio quindi il Milan ingancia l'Inter cambio nel Milan fuori Ebram e dentro Pavlovich applausi per Tammi che ha sbagliato quel gol ma ha giocato un'ottima partita però ha giocato un'ottima partita il lancio di Megnana adesso chiaramente l'Oftus penso vada a fare il terminale offensivo a saltare anche Ciuqueze recupera palla in qualche modo a Cerbi e l'Inter riparte adesso sarà fatica anzi no perché Ciuqueze va a recuperare palla su Di Marco poi la recupera a sua volta Zieli e l'Inter riparte hai tolto tutto il cuore capito? il cuore pulsante dell'Inter parella c'erano Gumi Michiiterian almeno uno lasciamelo l'Inter non ha la sua solità ne va in mezzo bravissima ora una palla lunga in pallo laterale dai rimessa per il Milan l'ultimo tocco è stato direttamente di Sonner è arrivato Fonseca criticatissimo vediamo aspettiamo due minuti prima di fare il bilancio ora manchiamo con la cronaca tanto guarda noi dobbiamo andare in pubblicità alle 40 ma andremo con la cronaca fino alla fine Emerson lungo la ricerca di Loftus Cic lo anticipa Di Marco il pallone rimane buono Loftus a contrasto con la Cerbi recupera palla l'Inter Zelischi può ripartire con Carlos Augusto Lautaro ancora per Zelischi troppo lungo il passaggio non fallo inutile tra l'altro perché perdi pure tempo la punizione anche questo sì ma di frustrazione ma perde tempo cosa perdi tempo punizione per il Milan lo dicevo Paolo sottovoce anche Fofanai è salito di rendimento nella ripresa mi sembra che abbia fatto un secondo tempo Marotta è rimasto male migliore punizione per il Milan vediamo di giocarla con intelligenza mancano due minuti e mezzo ragazzi Gabbia giustamente riparte da Mignan con calma Mike perdi qualche istante va al rilancio lunghissimo lunghissimo di Mike alla ricerca di Loftus cioè Cerbi in anticipo che di fatto serve Zelischi riparte l'Inter superficiali ancora l'Inter ora con Di Marco che prova a buttarla avanti sperando di trovare qualcuno non lo trova Gabbia ancora però l'Inter che recupera ora sulla sinistra con Zelischi che deve provare Fofanai bravissima recuperare palla allora no Ciukweze per la ripartenza poi diventa buono però Caffor siamo di più no Caffor se la allunga la chiusura di Bastoni recupera Sommer due minuti esistiamo raga 20 secondi di speranze guarda Ebrama guarda Ebrama che si arrabbia fuori dal campo ora è un tifoso però Di Marco ora il Milano è un po' scoperto bisogna provare ad andare in aria veloce con Zelischi Di Marco Izaghi che chiama i suoi a riempire l'aria Di Marco il cross è buono il colpo di testa alto di Darmian che non colpisce alla gabbia e quindi uno la mette all'incrocio l'altro mette altissimo abbiamo detto già a Manchester che Darmian non è un attaccante è vero che neanche gabbia era solo Darmian ragazzi qua disattivizione pericolosa c'è ragione Tammi c'è ragione Tammi io da fuori ho sbagliato tutto quello che poteva sbagliare chiama il tempo Gabbio chiama il tempo chiama anch'io quanto manca manca 80 secondi 80 secondi siamo 94 sarà da recuperare qualcosa in più perché è entrato Pavlovich quindi prevedo già 30 secondi aggiuntivi si arriverà secondo me a 96 e 30 pronto Megnana al rinvio prenditi anche il giallo Michele prenditi tutto quello che vuoi fai quello che vuoi rilancio di Mike lungo in profondità sta per scoccare l'ultimo minuto di gioco la ricerca di Loftus Cic che prova di indirizzare per un compagno che non c'è pallone a somma Pavlovich giustamente diceva Marcello per Ebram quindi alla fine il difensore in più l'ha messo almeno in vantaggio Fonseca rido per non piangere Lautaro che viene anticipato un cambio logico una volta tanto allora ancora Di Marco proprio oggi deve fare il cambio logico Di Marco per Zelischi mentre non l'ha fatti secondo me tantissimo non è uno sproveduto del tutto dai tutti a saltare no ma si scherza almeno cerco di sdrammatizzare per me ancora Di Marco che la mette a terra supera Emerson Royal ancora Di Marco entra in aria supera un altro avversario poi il tiro di destro murato perché di destro poi Cicu con la coscia di indirizzare per Ocaforra ripartiamo noi in contropiede siamo in tanti contro pochi siamo in tanti no 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 la palla diventa buona per Reinders esce Somer che va con i piedi e la mette in faro laterale no dove c'è Tio Hernandez che la scaraventa il più lontano possibile dai che forse abbiamo l'ultimo possesso dai proviamo a metterla in aria di rigore 15 secondi 14 mettiamole in aria l'ultima palla in aria troppo tempo dai tre ore in aria che mancano 10 secondi 9 8 7 finita la partita dai ultima palla lunga mi sa che però non arriverà mai in aria perché 3 secondi è vero è uscito è uscito è stato il cambio è vero altri 30 secondi ha detto 97 a 1 1 in più meglio così Turam ha battuto Lautaro ma non parlare se ne va ripartiamo noi in contropiede siamo in contropiede Cucuhezze Cucuhezze c'è Ocafor dalla parte opposta Cucuhezze Cucuhezze palla per Oca FAAA dai 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 veloce veloce no 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 cosa hai svegliato ci sono 40 secondi dai non ci credo ragazzi è finita è finita dopo due anni torniamo a vincere un derby meritatissimamente Paolo Fonseca 2 a 1 dai posso dire adesso io ho detto a mio figlio oggi pomeriggio quello piccolo che mi l'avrebbe venito 2 a 1 quindi dopo assolta mettiamo delle bustine diciamo risultati delle bustine però noi siamo già fuorissimo con la pubblicità prendiamoci un altro minuto poi dopo ci riposiamo un secondo e torniamo per i commenti velocemente comincia tu che sei il vincitore della serata no contentissimo contentissimo soprattutto per il secondo tempo sono agitatissimo sto sfogando tutto quello che ho addosso era due anni che non vincere un darvi ragazzi concedetemelo descrivi quello che succede in campo tanti abbracci si abbracciano tutti Morata Fonseca Gabbia bene questa era la vittoria che serviva l'Inter c'è rimasta male però non so se siete d'accordo ma il Milan per quello che ha fatto nel secondo tempo ha meritato se fosse finita 3 o 4 a 1 non c'era da dire niente direi di no un primo tempo negativo nel complesso meglio l'Inter diciamo primi 20 minuti poi meglio l'Inter poi 20 l'Inter e poi solo l'Inter e poi il Milan si è mangiato 4 gol vai Bargigia no dicevo che è successa una cosa inaspettata cioè tutti davamo Fonseca per morto con i giocatori beh questo è il bello del caccio esatto con i giocatori che sembrava vedi qui i giocatori se non fossero stati dalla parte dell'allenatore non avrebbero fatto questa partita sono d'accordo perché si diceva anche che i giocatori erano perfessi perché non capivano avevamo gli strumenti per dirlo però avevamo gli indizi per dirlo beh certo però evidentemente guarda quello che ha detto Fonseca all'inizio l'abbiamo preso in giro ha capito di avere la squadra dalla sua parte forse in modo mascherato come fa sempre il Milan gli è stato vicino e c'è stata una reazione onestamente secondo me inaspettata però i vincitori della serata Milan Fonseca Chirico e tu nel pomeriggio con il pronostico però io stasera impostando la serata l'ho detto fin dall'inizio che il calcio non è prevedibile l'Inter soprattutto e analizzando Fonseca nella battuta ceo ci fa ho detto se c'è ma se quello che dico è vero stasera vedremo una partita vera nel Milan la vinta con coraggio lo dicevo all'inizio della partita questa formazione ci ha detto se devo andare fino in fondo ci vado con le mie idee bella cosa una battuta per voi due aveva detto Fonseca che si sono allenati con grande serietà è serenità questa serenità si è vista in campo si è visto finalmente all'orgoglio poi dobbiamo dire che non l'abbiamo detto perché abbiamo detto di Ibrahimovic di questa sera ma non di Ibrahimovic dell'altro giorno che Ibrahimovic è un po' tornato sui suoi passi l'abbiamo criticato tutti poi lui ha detto non mi capisco ma quel fraseggio non è da niente è un fraseggio di un matto a noi ci diverte perché facciamo un talk il leone il dio i gattini il boss ma l'ha anche capito ha fatto retromarcia è andato negli spogliatoi e probabilmente ha parlato un'altra lingua sia con i giocatori che con e anche a Milanello con l'allenatore quindi cambiando tono c'è stata c'è stata una riconversione no? perché diciamo tra virgolette e quindi questo è stato comunque evidentemente una cosa di sblocco no? del gruppo comunque non penso che la squadra del Milan sia contro l'allenatore però ci sono due giocatori che non lo sopportano Leao Teo e Leao velocemente per la tua Inter che poi andiamo in pubblicità Inter sulle gambe nel secondo tempo poi stravolta da Inzaghi forse perché ha provato a dare l'infa con le forze fresche però stravolgere tutto il centrocampo secondo me almeno Barella che secondo me ne aveva ancora poteva dare un po' ancora di forza di energia al centrocampo e l'Inter nel secondo tempo è riconoscibile insomma secondo me Inzaghi sono le fatiche di Manchester la sorpresa di trovarsi un Milan di questo tipo davanti e probabilmente un allenatore che a un certo punto ha perso un po' la bussola di nervosismo grande fallosità e grande nervosismo anche di Inzaghi che ha perso un po' la bussola e è tornato un po' indietro all'Inzaghi quando veniva criticato per le sostituzioni che era un po' scolastico nei campi ultima cosa su Fonseca per dire che era serata di Fonseca cioè poi gli era vinta un giocatore che lui ha scelto di mettere in campo anche la storia di Pavlovich va bene classifica prima di Atalanta combo domani e Coltorino rimane in testa Napoli Udinese a 10 Juventus a 9 con l'Empoli e poi il Milan che aggancia all'Inter a 8 punti la partita di domani insomma l'Atalanta anche se dovesse vincere con il Combo va a 9 punti significa che il Milan non solo stasera ha vinto il derby dopo che ne aveva persi quanti? 6 o 7? non solo si è riscattato dopo questo inizio di stagione drammatico e si è scattato nella partita simbolicamente più importante ma si rimette anche diciamo in corsa per il campionato perché comunque sta a 3 punti dalla prima e siamo appena all'inizio del campionato up and down Inter e Mila cominciamo dai vincitori dai dal Mila allora io credo allora noi negli app premiamo solo 3 giocatori però io oggi ne avrei tanti da premiare oggi ce ne avrei mettere 10 oggi ne metterai tanti sicuramente Gabbia direi che lo premiamo per il duo della vittoria perché poi nel secondo tempo ha fatto una grande partita ha ragione Paolo nel senso che lui ha detto non era una è stata una scelta di Fonseca quindi il fatto che poi abbia giocato una bella partita è giusto premiarlo 8 per Gabbia e poi premio Reinders pazzesco Reinders pazzesco sì però volevo premiarne altri due che spesso sono stati criticati quindi io premio Everson Royale che secondo me ha fatto un gran secondo tempo no vabbè però io lo premio per la parola e poi pensano sui suoi però fatigli rifatti e poi li criticiamo infatti io ho detto che avrei premiato avrei premiato facciamo che li fanno Mosconi e poi noi le criticiamo esatto io avrei premiato i parodi se non dobbiamo aprire gli appunti Reinders non lo scopriamo ci sappiamo aspetta un attimo ne hai dato poi secondo me dobbiamo aprire gli appunti ha detto Mosconi sia allora i premiati di Mosconi cronista del Milano Gabbia punteggio altissimo Emerson a sorpresa con 7 e insomma noi dobbiamo io non conosco le regole di questa rubrica che sono un uomo si preme anche gli allenatori ma pure i massaggiatori anche l'arbitro se vuoi comunque questi sono i miei app non ce ne sono oggi non do nessun down dopo un primo tempo d'accordo? non d'accordo? sono d'accordo con Matteo io avrei messo Abram io avrei messo Abram però hai fatto bene a premiare anche Fonseca io avrei messo Ebram Ebram ha fatto un lavorone ma no perché voglio dire ha fatto due belle cosine ha fatto quel colpo di testa nel finale che è stato travolto ha messo due o tre bei palloni in mezzo però Reinders è stato nominato anche uomo del match Reinders lo devi mettere non puoi non metterlo tutti i palloni, tutte le giocate del Milan passavano da lui infatti io ho sottolineato che avrei premiato tanti giocatori stasera premio anche loro però Emerson non si è limitato solo a quella Emerson ha fatto una partita più alta è stato massacrato per un mese è stato premiato per la partita che ha fatto contro Di Marco che è un sopra giocatore per tratti della partita poi l'Inter si è bruciata ma dalla parte di Emerson si entrava entravano eh di Marco e Bastoni di Marco e Bastoni sembrava a un certo punto che facessero allenamento e poi Emerson ha dato il suo contributo eh ho capito ma perché caratteri io lo avrei condivido premiare anche cioè non dai non metti Reinders no no ma Reinders lo metterei ma Reinders non è una scoperta vabbè ma l'ha capito no aspetta è una discussione però signori io non lo so però cioè non è questione che non è una scoperta ma se tu devi dare i migliori di una partita guardi la partita benissimo io guardo la partita io guardo la partita per me Gabby è il migliore in campo perché ti fa vincere un derby dopo due anni e poi premio due personaggi che hanno fatto una bella partita sia in panchina Fonseca che Emerson in campo che sono stati massacrati nell'ultima settimana oggi hanno fatto una bella partita no ho capito il criterio ma non c'entra però la palla in tessa da grado non c'entra ma li do io i voti poi li darai tu Paolo ma scusate ma per me si ho capito ma ogni volta quando qualcuno fa gli up and down viene costantemente interrotto non va bene non va bene la pazienza la può perdere no la puoi perdere si la posso perdere Reinders è stato uno dei migliori in campo io ho deciso che i miei migliori in campo sono Gabby ed Emerson si ma non me ne sta bene è un problema mio scusami ma deve essere un problema tuo è un problema mio perché se il conduttore mi chiede se sono d'accordo io dico di no no io non ho detto quello io ho detto che non fare il permalosetto non faccio il permalosetto cioè voglio dire non mi insegnare il calcio ti prego non mi fare delle super calzole filosofiche cioè se la grammatica della partita ma non mi interessa dai i voti che vuoi te io do i miei basta e io devo dare gli appena ogni voto scusa ogni voto e faccio gli appena tu sei lì che parli sopra va bene ma io lo stavo dopo di la tua tu sei un attimale perché io non ho parlato io stavo dicendo Emerson un attimo un attimo io ho risposto dopo il conduttore ha chiesto come pensavo va bene ma scusate e allora non devi essere così per maloso sono per maloso la finita però scusa Claudio scusa però no io devo dire una cosa io però devo dire di metterlo scusa che sennò qui dopo ci perdiamo mi ha detto più di una volta se no li tolgo li appena ok mettiamoci d'accordo subito però tu li fai e noi li commettiamo tu li fai e non li commettiamo se per me Emerson è una boiata pazzesca io ho il diritto di dirlo dopo che li ho fatti però adesso guardate che adesso facciamo l'inter adesso Paolo guardiamoci un secondo però noi nella critica nella critica di un talk tu li fai e li accettiamo e fanno parte perché noi li discutiamo assolutamente tu li vuoi anche li discutono a tua volta perché se no perché dai se no che democrazia del pallone ci sarebbe però mi raccomando senza su questo diciamo personalizzare ma poi scusami ma non è che state direttamente Paolo però posso dire faccio un intervento ma uno che si risente perché mentre gli fa un altro commento ci sta un altro ma non è che sta parlando il vate del mondo del pallone ma certo ma io sono mi dispiace secondo me nemmeno Gianni Brera dai Borrelli fagli up and down del lì fagli up and down del lì c'è questo mestiere da due giorni dai 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 non personalizziamo Paolo Paolo Matteo scusate non personalizziamo stiamo insieme siamo siamo anche tu parlavi di me che ti è interrotto quando ti è interrotto ragazzi facciamo passi davanti siamo tutti colleghi siamo tutti colleghi ci rispettiamo c'è stato un equivoco Matteo fa le pagelle noi le commentiamo le ricommentiamo le ricommento come giusto se no il calcio sarebbe finito non personalizziamo Matteo ha spiegato la filosofia dei suoi voti e Paolo secondo me ha spiegato la sua adesso senza nessuno soffrente che condivido che è quella del campo di questa serie ha detto questo fa parte della nostra libertà interpretativa e nessuno deve dare i giudizi su nessuno basta Paolo l'ho chiusa qua allora gli up dell'Inter partiamo dagli up anche se non sono facili perché l'Inter è il secondo tempo veramente molto sottotono Sommer però fa eccezione perché ha tenuto a galla l'Inter quindi ha un bel sette a Sommer il portiere che ha tenuto l'Inter a galla nulla ha potuto sul colpo di testa di gabbia quindi sette per Sommer poi Di Marco che scende dal primo tempo però rimane comunque positivo perché da quella parte l'Inter ha attaccato scende a sei e mezzo ha messo diversi palloni buoni ha fatto anche un bel gol e quindi scendo perché poi mi faccio anche un po' influenzare lo ammetto dal risultato finale e Bastoni perché da quella parte insomma Bastoni Di Marco è stata una delle poche cose che ha funzionato molto più semplice andare a trovare i down perché Pavard veramente negativo al gol subito il primo poi ha messo anche la pallosità nel secondo tempo è stato graziato per un giallo ma ha sbagliato due o tre uscite passando la pallo all'avversario quindi sotto il 5 4 e mezzo Miki Italian purtroppo non è la prima partita quest'anno che non è lui però è un 5 pieno poi sostituito da Inzaghi per l'ammunizione me la posso prendere con tanti nel senso Frattesi doveva saltare meglio su Gabbia però io non mi voglio accanire con il subentrato ma con quelli che mi devono fare la differenza e simbolicamente scelgo Turam che è vero che è impegnato Mignan nel primo tempo ma nel secondo non è ripartito praticamente mai con qualità 5 anche per lui allora vediamo mancano pochi secondi vogliamo litigare pure su questo siamo d'accordo litigare in senso buono siamo d'accordo d'accordo io però me li fate rivedere un secondo ecco bravo tra Turam e Lautaro che è stato peggio secondo me Lautaro se la giocano se la giocano Turam è proprio sparito dal gioco ma Lautaro un pallone d'oro Lautaro ha fatto sta girata almeno 5 pure lui 5 carri poi ci sta mentre di Marco benissimo vediamo sempre i voti di Michele tanti 5 l'Inter no io sono d'accordo cioè io voglio dire sono negativo su Inzaghi stasera a parte per i cambi anche io avrei dato nella filosofia della sua ci avrei messo anche l'allenatore ci avrei messo 5 in genere no no però vanno bene perché forse lui non ha letto non ha letto le condizioni di Turam l'ha tenuta in campo tutta la partita cioè non Taremi ha sempre fatto bene quando ha giocato e forse ci volevamo un po' più di coraggio nel cambiare Turam ora ha mancato un po' di lucidità perché nelle scelte sia in possesso e non possesso non è stata la solita squadra che conosciamo quindi probabilmente non abbiamo espresso il nostro il nostro calcio solito ma sottovalutata no perché noi sappiamo che il Milan è una squadra forte è costruita con tanti giocatori di gamba di ripartenza quindi l'avevamo l'avevamo preparata bene poi in campo si è visto poco prego ciao Simone ciao quanto c'è di Manchester nella serata di questa sera c'è dal punto di vista mentale oltre che fisico e quindi quanto dobbiamo pensare a una squadra al massimo su tutte e due fronti ma però insomma il Milan aveva giocato come noi il giorno prima con Liverpool contro un grande avversario come abbiamo incontrato noi la lucidità energie fisiche mentali però gli avevano spese anche anche la nostra squadra che abbiamo incontrato che probabilmente aveva cambiato ha cambiato meno uomini rispetto a noi quindi dovevamo essere più squadre insomma quella sensazione di squadra che diamo da tre anni a questa parte stasera l'abbiamo data poco e calcio non ti perdona abbiamo perso meritatamente qui davanti prego ciao Simone ciao senti nella serata triste per il pianeta Inter forse paradossalmente il bicchiere mezzo vuoto mezzo piano si vede guardando la classifica perché non c'è una lepre tutti raggruppati in pochi punti quindi potrebbe sempre paradossalmente perché perdere il derby non è mai bello essere è stata la serata che dice a questi giocatori ora deve cominciare il campionato però perché finora non è a parte l'Atalanta insomma non si è visto molto beh quello è una piccola consolazione insomma sappiamo la classifica siamo tutte squadri in pochi punti chiaramente noi dobbiamo cambiare marcia perché otto punti in cinque partite sono pochi prego l'ultima mister buonasera ciao il 4-2-4 di Fonseca che nessuno si aspettava vi ha un po' diciamo così colti impreparati è stato un Milan troppo diverso rispetto alle ultime partite ma il Milan è una squadra è una squadra è un'ottima squadra come ho detto prima il 4-2-4 ieri quando abbiamo fatto l'allenamento già se ne parlava se ne scriveva quindi l'ultimo l'ultimo allenamento e la rifintura di stamattina l'abbiamo incentrato su quello quindi al di là che potesse essere una sorpresa no abbiamo trovato una squadra di fronte che ha difeso quando si doveva difendere è stata dentro la partita non ha non ha preso gol dopo l'1-1 e ha approcciato due tempi molto molto meglio di noi perché il primo tempo sono entrati meglio di noi e il secondo il primo quarto d'ora del secondo tempo hanno fatto meglio e ho provato a cambiare per cercare di vedere se riuscivamo a ricompattarci meglio a concedere meno ma è cambiato poco ciao Simone ciao ti sei preso le responsabilità però raramente ti ho sentito dire siamo stati poco squadra cosa ti senti di rimproverare al gruppo perché ho la sensazione che tu qualche cosa ai tuoi giocatori lo rimproveri lo rimproverò a me perché io sono allenatore sono responsabile mi dispiace aver perso un derby un derby così perché sapevamo che il Milan è una squadra di ripartenza con degli strappi importanti e ne abbiamo concessi troppo insomma dovevamo essere più lucidi nel leggere ma probabilmente abbiamo perso un po' di lucidità nei momenti abbiamo perso le distanze contro queste squadre che che sono così bravi nelle ripartenze dovevamo farlo meglio dovevamo essere bravi a leggere i momenti della gara i due approcci ai tempi non mi sono piaciuti grazie buonasera grazie torniamo in studio aspettiamo ovviamente Fonseca ho un giocatore dell'Inter perché devo parlare a Fonseca beh devo dire un'autocritica anche qui insomma di solito glieli facciamo i complimenti è sempre onesto intellettualmente stasera particolarmente perché non ha cercato il giorno in più scusanti negli avversari nelle cose ha detto che sta parlando d'Armian vogliamo sentire un attimo d'Armian sentiamo un attimo d'Armian dell'Inter ciao Matteo cosa non è andato questa sera secondo te un po' nell'approccio nella gestione della partita nelle preventive in campo sembra proprio un'Inter spenta sì un po' tante cose un po' di ogni cosa che hai detto volevamo fare sicuramente meglio non siamo riusciti a fare una prestazione una buona prestazione e alla fine è arrivata pure una sconfitta e fa male perché poi perdere una partita a maggior ragione un derby fa sempre male però quello che che dobbiamo fare è continuare a lavorare e pensare subito alla prossima lo sapevate ad inizio stagione l'aveva anche evidenziato l'allenatore i campanelli d'allarme in una stagione in cui arrivi dopo aver dominato il campionato precedente richiedono evidentemente uno step in più cosa avete capito da questo inizio di campionato che cosa può essere la stagione dell'Inter se non cambiate passo sì di sicuro non cerchiamo non cerchiamo alibi oggi è arrivata una sconfitta magari abbiamo parigiato qualche partita nelle prime giornate e potevamo sicuramente fare meglio in questo inizio inizio di stagione però siamo abbastanza maturi sapevamo che dopo l'anno scorso rivincere sarebbe stato difficile e lo dimostro in questo inizio di stagione ma non per quanto riguarda noi solo noi anche tante altre squadre magari hanno lasciato dei punti e quindi dovremmo essere bravi noi a recuperare i punti persi per strada ciao Matteo come ti spiego allora dal mio anno continuo a rispondere noi siamo sempre in attesa di rispondere cosa dicevi la parola svuotata secondo me l'Inter oggi io pensavo potesse essere un sottovalutare il Monza invece purtroppo allora Marcello diceva che è difficile tenere il passo su due fronti allora l'Inter nel 22-23 l'Inter nel 22-23 si è staccata subito in campionato ha fatto una grandissima Champions nella seconda parte l'anno scorso aveva l'ossessione della seconda stella in Champions faceva il turnover siamo parlando due anni fa no adesso ti ho detto i due anni una volta più Champions una volta più Campionato adesso la scommessa di quest'anno era reggere su due fronti finora si è visto che è complicato però il tema che non c'è una squadra a 15 è complicato anche per gli altri no ma certo ma l'abbiamo fatta vedere più volte la rifacciamo vedere la classifica perché non ce l'avesse presente vedete e rifacciamo i complimenti al Torino ripromettendo che martedì stiamo insieme non c'è la Champions e gli faremo l'analisi tutti i temi del campionato che stasera sai che a Torino festeggiano essendoci un partitone i cugini festeggiano non sognavano già di stare davanti alla Juve allora l'importante è stare davanti alla Juve tutto bravo sì giovane giovane di esperienza perché poi in verità vanno le 52 anni ma giovane di esperienza certo con la Serie A certo poi se la rivediamo la classifica vediamo che tutte le big tutte le pretendenti e altri stanno tutte lì domani ripeto gioco all'Atalanta manca ancora Atalanta-Como e vedremo quello che succede e poi martedì avremo un quadro ma stanno tutte lì ecco però è tutto aperto insomma sì no Claudio volevo dire è chiaro che questa caduta nel derby ci fa parlare molto di un'Inter diversa dalla scorsa stagione però se tu togli la partita con l'Atalanta l'Inter quest'anno in campionato non ha mai fatto bene non ha mai convinto l'Inter ha fatto benissimo quando non c'erano ancora le coppe appena sono subentrate le coppe però non è mai stata dominante non è mai a parte la partita con l'Atalanta con l'Ecce non mi sembrava una brutta partita col Genoa secondo me erano più due episodi col Monza male oggi male però cioè vedi che poi metti insieme le cose mi diverte questo perché nel lato di un paio d'ore prego una cosa che ha detto che ci ha chiarito Inzaghi è che Barella aveva un problemino fisico quindi l'ha tolto per questo magari non era se era la finale di Champions no però aveva il problemino fisico gli altri magari è stato per l'ammunizione ma lui voleva cercare di cambiare il più possibile perché vedeva che la squadra non girava ha provato a stravolgere è stato un tentativo Vabbè adesso speriamo che arrivi Fonseca ma visto che in tre ore siamo passati dal processo al Milan e poi siamo saliti ma al calcio spesso e volentieri è così non è che succede domani scusa se te lo chiedo e te lo interrotto domani è che succede adesso quindi ma io spero che adesso si faccia lavorare l'allenatore con tranquillità con serenità senza troppe pressioni senza dover aver l'ansia di dire che domani arriva Sarri dopo domani arriva Terzic tra tre giorni arriva Allegri Sarri era deluso adesso non arriva nessuno adesso non arriva nessuno Fonseca l'ha detto nel pre partita avevamo mandato la clip anche se non sbaglio prima della gara dove lui dice che aveva visto i ragazzi concentrati in allenamento io nella diretta precedente a questa telecronaca l'avevo detto io non credo che Fonseca vada in conferenza stampa a raccontare delle cose che non esistono infatti la prima domanda della serata è stata questa ci è esatto la Romagna l'ho fatta proprio a te alle 20 e 31 e io ti dico che secondo me non è un allenatore sprovveduto in maniera tale da andare a dire delle castronerie in conferenza stampa quindi io sono contentissimo del risultato contento che rimanga Fonseca spero che lo facciano lavorare in tranquillità e adesso il Milan ha una partita in casa con il Lecce che può dare continuità in campionato perché il Milan ha la seconda vittoria consecutiva in campionato potrebbe fare tre con il Lecce e poi ci sarà il Carlos ci sa se la regia ha conservato da qualche parte stiamo sempre attendendo Fonseca che vediamo adesso vuoto nel momento della conferenza da San Siro e se abbiamo gli impegni del Milan l'abbiamo fatto per tutte le squadre prima della sosta nuova della nazionale ma mi sembra che le conferenze sono finite qui tra l'altro non va a Fonseca non credo che non durare tra l'altro c'è una cosa curiosa parlando di Fonseca perché in pratica è arrivato perché il Milan ha stracciato il contratto con Lopeteghi e adesso Lopeteghi sta facendo malissimo è in piena crisi con il West Ham è quattordicesimo gli hanno speso un sacco di saldi sul mercato ha fatto quattro punti in cinque partite tre sconfitte su tre in casa nella sera è molto contestato oggi perché ha perso in casa ancora è nella sera del trionfo di Fonseca comunque per me esce vincente a parte il derby adesso cercando di allargare perché abbiamo visto la classifica per me quello che sta meglio in questo momento che ha più problemi meno problemi di tutti e più problemi risolti è il Napoli perché il Napoli non ha i due fronti e abbiamo visto che questo si paga sicuramente però vediamo un attimo se ricopriamo la grafica degli impegni del Milan prima della Rosa ecco Milan-Lecce sì abbiamo tolto ovviamente quelli che sono stati giocati quindi poi va insomma con i campioni di Germania che sono forti insomma una partita e poi comunque va a Firenze oggi la Fiorentina ha dimostrato che comincia a ingranare il mercato di commisso il nuovo allenatore insomma bella partita anche che la Lazio poteva insomma ma giocato io sui rigori non sono due partite tre partite facili Milan-Lecce sì secondo me Milan-Lecce in casa non ha alternativa alla vittoria ma alle vercuse ne inizia ad avere un po' di pressione perché poi il fatto che tu hai perso la prima giornata di Champions vedendo poi la classifica non è che puoi permetterti troppi errori in Champions League quindi diventa una partita importante poi la Fiorentina oggi secondo me ha inserito un giocatore che a palladino serviva come il pane che è Gudgusson che è entrato indipendentemente dal fatto che abbia segnato due rigori io sono d'accordo con Baroni Baroni ha contestato molto secondo soprattutto soprattutto il secondo secondo io proprio non l'avrei mai dato non l'avrei mai dato adesso non abbiamo le immagini e parlare senza immagini insomma è un po' difficile però insomma abbiamo visto quindi gli impegni vogliamo rivedere gli impegni dell'Inter prima diciamo della pausa successiva quella di settembre quella nazione che l'Inter va a Udine è vero che oggi l'Udine si è perso poi c'è la Champions in casa con la Stella Rossa e poi va a Torino il Torino che cioè va a Torino in casa col Torino che prima che prima in classifica vediamo l'impegno di questa sera ovviamente eh sì non è un calendario segno anche il Torino non ha impegne è come il Napoli anche il Torino è come il Napoli e poi soprattutto il prossimo blocco di partite dell'Inter dopo la sosta sarà veramente sono tutte partite ha la Roma fuori casa la Juventus il Napoli l'Arsenal cioè sono tutte partite difficili nel prossimo blocco mentre il Napoli parlavamo in questi giorni fino alla decima quando affronterà eh il Milan ha tutte partite dove può fare un piccolo filotto e non ha l'Europa noi stiamo senti Chirico ma facendo un passo in avanti facciamo un antipasto dopo tutto quello che hai visto la tua Juve il Napoli senza coppe questo Inter questa sera questo Milan questa sera queste sorprese prima dell'Udinese o del Torino che pensi di questo campionato? sono positivo cioè? tanto ero negativo ieri sera quando ho visto la parere poi ci siamo anche sentiti con Paolo eravamo tutti e due negativi su quello che abbiamo visto tanto sono positivo stasera perché vuol dire che l'Inter quest'anno lascia qualcosa e quindi siccome la davo come prima favorita siamo tutti in corsa grazie a tutti